Noto l'ordine del giorno reca l'audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, Maurizio De Lucia, accompagnato dai procuratori aggiunti Marzia Sabella e Paolo Guido, a cui do il benvenuto e li ringrazio veramente di cuore per la disponibilità immediata ad essere qui. Ricordo che la seduta odierna si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta la partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. I lavori potranno proseguire in forma segreta a richiesta dell'audito dei colleghi e in tal caso non sarà più consentita la partecipazione da remoto e verrà interrotta la trasmissione via streaming sulla web tv. Prego i colleghi al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei nostri lavori e consentire la più ampia partecipazione di rimanere nel limite dei tre minuti per intervento. A questo punto, senza perdere ulteriore tempo, visto l'importanza di questa audizione, do la parola al Procuratore di Lucia, che ancora ringrazio per la cortesia e la disponibilità. Grazie Presidente, siamo noi innanzitutto che ringraziamo la Commissione per l'invito che ci ha rivolto. Noi riteniamo molto utile e molto importante dialogare con la Commissione nazionale antimafia che nasce per le questioni di Palermo sia pure negli anni Sessanta e che ha una storia che per molti versi riguarda le vicende di Palermo. Però, vengo subito all'attualità delle cose. Innanzitutto, credo che possa essere di interesse della Commissione conoscere come è strutturata la nostra direzione di settore antimafia, che è l'ufficio preposto al contrasto al crimine organizzato di tipo mafioso in un territorio assolutamente consistente e come dimensione territoriale, perché riguarda le tre province caratterizzate dalla presenza mafiosa, direi secolare, quelle di Palermo, Trapani ed Agrigento, e perché riguarda anche una popolazione consistente in termini di densità abitativa che varia. Peraltro, questo è un dato che va sempre considerato in considerazione anche dei flussi turistici da un lato, quelli positivi, e dei flussi di immigrazione dall'altro lato, quelli che creano una serie di preoccupazioni. Come dicevo, di recente noi abbiamo ristrutturato l'organizzazione della direzione di settore antimafia di Palermo, riportandola a una struttura che è quella originaria, cioè una struttura che sta tutta sul territorio, dividendo la direzione distrettuale in tre aree, tutte territoriali, quella di Palermo, quella di Trapani e quella di Agrigento, con al vertice di ciascun'area, con funzioni di coordinamento, un procuratore aggiunto. Sono qui presenti il procuratore aggiunto coordinatore dell'area di Palermo, la dottoressa Sabella, e quello dell'area di Trapani, il dottor Guido, è assente per una questione di salute, ma nulla di preoccupante, il dottor De Montis, che è il titolare della terza area, quella che riguarda l'agrigentino. Anche dal punto di vista specifico, le aree si occupano settorialmente della questione delle misure di prevenzione, assegnate in questo momento all'autoressa Sabella, e a cui lo dirò, noi attribuiamo un'importanza determinante nel contrasto al crimine organizzato di tipo mafioso, e il fenomeno della tratta, che per questioni territoriali è affidato all'area territoriale di Agrigento. Attualmente i magistrati previsti in organico nella direzione di settore antimafia sono 25, se non vado errato esatto, 21 sostituti procuratori, i tre procuratori aggiunti che ho detto è il procuratore della Repubblica, che ha la responsabilità anche della direzione di settore antimafia. In realtà la situazione non è così luminosa come appare dai dati del progetto organizzativo e dalla nostra previsione, perché l'organico della Procura di Palermo è in questo momento a meno 14 sostituti, noi abbiamo un organico di 61 sostituti procuratori, ce ne mancano 14, che sono una quota consistente. Devo dare atto al Consiglio Superiore della Magistratura di aver deciso nell'ultima infornata, diciamo così, di magistrati di nuova nomina, di destinarne 4 alla Procura della Repubblica di Palermo, il che in prospettiva ci consentirà di portare l'organico dei sostituti dedicati alla direzione di settore antimafia a 14, ma da 21 ne mancano 7. Questa è una conseguenza della mancanza per un non breve periodo di tempo di concorsi, soprattutto che consentirebbero di riempire le piante organiche, le piante organiche sono in via generale non piene, la nostra soffre in particolare dei numeri che ho detto e naturalmente non è indifferente avere una pianta organica con meno sostituti in un territorio come quello di Palermo. Dopodiché la struttura della nostra direzione di settore antimafia riflette in qualche misura la struttura storica dell'organizzazione mafiosa principale che è presente sul territorio per il quale noi abbiamo la competenza, che è la cosa nostra siciliana, la cosa nostra palermitana in particolare, ma non solo perché poi sono presenti fenomeni di criminalità organizzata comunque importanti. Abbiamo ad esempio nell'area di Agrigento un ritorno del fenomeno Stiddaro che era un fenomeno nato a cavallo fra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta che per un certo periodo di tempo si è ritenuto sostanzialmente debellato rispetto al quale invece oggi noi registriamo la presenza nuova di esponenti della vecchia organizzazione criminale e di nuovi soggetti che si avvicinano al fenomeno Stiddaro per ricostruire un'organizzazione che in qualche modo è dialogante con Cosa Nostra. Cosa Nostra che attualmente, io ritengo sia un fatto questo difficilmente contestabile, attraversa una fase di crisi, fase di crisi che nasce sostanzialmente nel momento di massimo splendore, per usare un termine che non è appropriato dell'organizzazione criminale, cioè nel momento in cui nel 1992, come tutti ricordiamo, vengono poste in essere le due stragi palermitane di Capaccio e di Via D'Amelio e nel 1993 con una valutazione che politicamente è forse anche dal punto di vista di Cosa Nostra un evento più eclatante, più grave, perché non si svolge nel territorio dove tradizionalmente Cosa Nostra governa, cioè la Sicilia occidentale, ma in Italia e con un obiettivo molto sofisticato che sono i beni del patrimonio artistico nazionale, Cosa Nostra manifesta il massimo della sua potenza. Da quel momento l'organizzazione mafiosa incontra una forma di contrasto che non è conosciuto in passato, nel senso che noi riteniamo che una delle caratteristiche fondamentali di Cosa Nostra sia la sua elasticità, cioè la capacità di adeguarsi all'altro soggetto che è presente sul territorio, l'altro soggetto presente sul territorio è lo Stato, sappiamo tutti che le due strutture, quella statuale e quella mafiosa hanno delle similitudini dal punto di vista proprio morfologico del modo di essere, che sono appunto la insistenza sullo stesso territorio, quello statuale, la presenza di regole che sono presenti anche all'interno dell'organizzazione mafiosa e la presenza di un popolo su cui si esercita questa volontà, la volontà mafiosa, che in particolare è quella dei cosiddetti uomini d'onore e via dicendo. Ora, questa struttura insiste sullo stesso territorio dello Stato, con lo Stato è abituato ad avere a che fare, nel senso che ci sono momenti in cui ci ha dialogato, ci sono dei momenti in cui ha subito il contrasto dello Stato. La caratteristica che si verifica dal 1992 in poi è che l'azione di contrasto dello Stato manifesta un carattere di continuità. Nel senso che io, non per citare il mio ufficio, ma noi fino a ieri abbiamo applicato, ieri proprio nel senso di ieri, misure cautelari che hanno riguardato esponenti dell'organizzazione mafiosa a Palermo, l'avevamo fatto lunedì scorso, continueremo a farlo con una conseguuzione che ha la sua origine, in realtà, proprio agli inizi di questa storia, nel 1992, utilizzando strumenti che poi il tempo ha affinato, ha evoluto e anche mutato da certi punti di vista. Il carattere della continuità mette in crisi l'organizzazione mafiosa, che si adegua a questa pressione, attuando in un certo periodo di tempo, che noi possiamo datare grossomodo dal 1995-96, cioè con la cattura dei più importanti esponenti dell'ala straggista dell'organizzazione, in particolare Luca Bagarella e poi Giovanni Brusca, a una fase, come dire, quella che viene definita di sommersione dell'organizzazione, che non è una fase nuova nella storia di Cosa Nostra, perché è una fase che è sempre stata così, cioè Cosa Nostra ha sempre avuto più interesse a parlare con le classi dirigenti e a fare affari con le classi dirigenti, piuttosto che a dominare con l'uso della forza. L'uso della forza è una parentesi che possiamo datare dal 1978 in poi l'assassinio di Cesare Terranova e anche del segretario di INA della Democrazia Cristiana del tempo. Quegli sono i momenti in cui si verifica questo diverso modo di atteggiarsi dall'organizzazione mafiosa. Dicevo, rispetto a questo, il carattere della continuità noi lo possiamo sintetizzare con l'utilizzo di quattro fondamentali linee di azione nel contrasto, che tuttora continuiamo a seguire. La prima attiene alla cattura dei grandi latitanti, perché l'organizzazione mafiosa è una organizzazione, e in questo si differenzia dalle altre mafie italiane, caratterizzata da un profilo di unitarietà. C'è la Commissione provinciale di Cosa Nostra che è l'organo di governo, è anche l'organo che assume le decisioni strategiche dell'organizzazione stessa e quindi è corretto dire che lo Stato ha svolto innanzitutto un'attività di ricerca dei latitanti in questi 30 anni, che poi si è definita in termini assai recenti con uno di loro, ma non dobbiamo dimenticare che dal 1993, 15 gennaio, e forse anche prima, ora non ricordo di Santa Paola quando è stato arrestato, mesi dopo la cattura di Rina, comunque dal 1993 in poi il primo sforzo che lo Stato fa è quello di catturare i latitanti. Catturare i latitanti vuol dire togliere le intelligenze che comandano l'organizzazione dal territorio e questo è un dato estremamente importante su cui si sono spese risorse e che ha dato risultati positivi. Il secondo pilastro sul quale si sviluppa questa nostra azione, che continuiamo, ripeto, a esercitare anche oggi e su cui bisogna tenere a mio giudizio molto alta la guardia, attiene al modo in cui i latitanti una volta catturati vengono custoditi nelle nostre carceri, e cioè all'applicazione del regime speciale di quell'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Questo strumento è uno strumento essenziale perché le caratteristiche di Cosa Nostra, ma più in generale di tutte le mafie, sono quelle di cercare continuamente e costantemente vertici che siano in grado di dirigerle. Il fatto che questi vertici siano all'interno del carcere, ma non siano posti in una condizione di non comunicazione con l'esterno, rende sostanzialmente inutile la loro cattura. Questo lo diciamo sulla scorta di decine di deposizioni di collaboratori di giustizia che ci hanno spiegato come funzionava il regime detentivo prima dell'applicazione del regime del cosiddetto carcere speciale. Da questo punto di vista bisogna ricordare alcune cose, e cioè che questa è una misura di prevenzione, e cioè il suo scopo è quello di isolare il capo dell'organizzazione dall'esterno e di impedirgli di continuare a fare quello che faceva da libero. Ed è solo una misura di prevenzione. Qui poi bisogna stare molto attenti a non immaginarla come una pena in più. Non è una pena in più. Io lo spiego spesso con un esempio. A noi è capitato di non chiedere l'applicazione del regime del 41 bis a killer che hanno commesso numerosi omicidi, perché quei killer sapevano sparare, ma neppure sapevano perché sparavano, chi, qual era l'obiettivo, qual era la strategia che stava dietro la scelta di compiere l'omicidio, mentre invece soggetti apparentemente in cattive condizioni di salute anziani erano, ma con la capacità di comandare e di dirigere, quelli sì, abbiamo chiesto e insistito, insistito anche in situazioni di particolare precarietà di salute, ma finché non c'era la possibilità che un capo vero dell'organizzazione potesse dare ordine all'interno del carcere al suo esterno, era necessario ed è tuttora necessario impedire che questo avvenga. Dopodiché è chiaro che i parametri che ci dettano le corti europee e la corte costituzionale in materia di 41 bis devono essere rispettati, che alcune cose a nostro giudizio sono insuperabili, ad esempio anche se può non piacere, ma l'idea che un vetro separi il nipote dal nonno e gli impedisca il contatto fisico può apparire come dire una forzatura dal punto di vista dei diritti umani, ma non lo è nella misura in cui noi sappiamo che attraverso quel nipote può essere lanciata una comunicazione all'esterno, mentre invece non c'è dubbio che sono irragionevoli una serie di regole che temo siano ancora vigenti riguardo ad esempio le dimensioni delle foto dei familiari che possono essere tenute in cella, qui francamente io non riesco neppure io a comprendere quali possano essere le ragioni per cui uno può avere la foto della moglie in un certo formato e non in un altro formato. Quindi anche qui si tratta semmai di rivedere l'istituto, ma solo da questo punto di vista. L'istituto in sé conserva ed è assolutamente imprescindibile che conservi l'importanza che ha avuto in questo momento. Il fatto di impedire ai capi di continuare a comunicare con l'esterno è una delle ragioni per cui l'organizzazione è cosa nostra e in oggettiva difficoltà. Dopodiché il terzo degli strumenti utilizzati è tuttora per noi di preziosissima utilità nella costruzione degli strumenti di indebolimento dell'organizzazione mafiosa, sta nell'uso degli strumenti delle misure di prevenzione e dei sequestri penali in tutte le forme in cui l'ordinamento ce li offre. Perché anche qui la ragione pratica e in qualche modo anche con una ricaduta sul modo di pensare dei mafiosi, si diventa mafiosi anche perché si vuole diventare ricchi, quindi è del tutto naturale che lo Stato ponga in essere tutti gli strumenti a sua disposizione per impoverire l'organizzazione mafiosa. E quindi l'uso degli strumenti di sequestro e di confisca dei beni sia con il binario delle misure di prevenzione, sia con il binario dei sequestri in materia penale e noi tendiamo a perseguirli entrambi, è anche questo uno strumento imprescindibile rispetto al quale noi continuiamo massicciamente a investire, a operare, molti dei miei sostituti la componente che si occupa di misure di prevenzione credo che sia di 12 sostituti, non voglio sbagliare il numero, è massicciamente impegnata in questo fronte. Perché noi abbiamo un problema di ricchezze dell'organizzazione mafiosa sul territorio, quelle che vengono dagli investimenti fatti in decenni di presenza e di sfruttamento del territorio nelle varie forme. Abbiamo un problema di ricerca di quei capitali che non sono stati investiti sul territorio e che hanno subito un fenomeno di finanziarizzazione che quindi si trovano ovunque nel pianeta, il che pone poi il problema del rafforzamento delle connessioni e delle collaborazioni in campo internazionale, tema che anche questo il mio ufficio sta cercando di sviluppare in tutti i modi possibili, aprendosi alle collaborazioni non soltanto con gli istituti europei, Eurojust in particolare, la stessa EPPO con cui costantemente ci coordiniamo, ma soprattutto con canali di comunicazione diretta, con gli uffici giudiziari del resto del mondo in cui c'è una qualunque traccia della presenza di capitali mafiosi. E poi tornando verso il basso, lo sforzo che qui ha anche un importante valore simbolico, sta nella sequestra, nella confisca proprio di tutto quello di cui i mafiosi possono disporre. Se noi immaginiamo che un giovane della borgata di Brancaccio, in questo momento senza particolari prospettive nella vita civile, occupazionali, culturali e via dicendo, vede nel mafioso con la moto di grossa cilindrata, comperata con il minimo sforzo della cessione di un po' di stupefacente un modello, l'idea di non solo sequestrare e confiscare quella moto, ma poi di affidarla come la legge ci consente di fare alle forze di polizia in questo momento, vuol dire mettere su quella moto quelli che loro chiamano gli sbirri e questa cosa ha un'importanza forse superiore a quella di appropriarci del bene, perché innesta un meccanismo, un ragionamento dentro, soprattutto i ragazzi più giovani, del senso mi conviene o non mi conviene fare una scelta verso la mafia, che qualche anno fa, diversi anni fa per fortuna, era con un chiaro saldo positivo per la mafia. Oggi non è più così perché attuando anche il quarto dei pilastri, che è quello a cui accennavo all'inizio, cioè la continuità dell'azione investigativa sul territorio che porta in maniera sistematica a processi e a condanne, colpisce dal punto di vista strutturale uno dei cardini del pensiero mafioso, cioè l'impunità. Fino anche qui, possiamo dire, agli anni Ottanta, era scontato che il mafioso, il carcere, lo avrebbe conosciuto soltanto in via transitoria attraverso quella che era la carcerazione preventiva nei tempi, ma non era la sua destinazione finale, diciamo così. Dagli anni Novanta fino, ripeto, a ieri, le catture dei mafiosi attraverso le indagini operate dalle forze di polizia e coordinate nel mio ufficio non si contano e questo a lungo andare crea un vulnus nel pensiero mafioso perché il ragionamento del io lo faccio ma poi finisco in galera diventa come dire una parte prioritaria del pensiero di questi soggetti. Questo quindi i quattro pilastri fondamentali della nostra azione, quali strumenti poi sono quelli fondamentali per poter costruire i processi perché questo va detto, le procure della Repubblica, le direzioni di istituzioni antimafia che nella mia valutazione, ma non solo nella mia valutazione, sono uno strumento fondamentale di quello che è accaduto dal 1992 in poi e anche qui non si può che darne atto chi le ha ideate, cioè Giovanni Falcone che ha creato quindi trasformato i pool in istituzioni e ha creato magistrati esperti che sostanzialmente nel fare solo questo acquisiscono una professionalità che altrimenti non sarebbe stato possibile acquisire. Ecco, le direzioni di istituzioni antimafia tutto questo l'hanno fatto certamente con un uso di strumenti che noi dobbiamo rivendicare come ad onore di tutto il Paese che sono gli strumenti del diritto, cioè tutto quello che è stato fatto contro le mafie è stato fatto con l'uso degli strumenti del processo e quindi con l'uso e il rispetto delle leggi. Non sempre in altri Paesi questo è avvenuto rispetto a fenomeni paragonabili a quello italiano. Nel nostro contesto e all'interno degli strumenti processuali quelli determinanti per la nostra azione in passato e anche oggi sono fondamentalmente due, perché stante la natura dell'organizzazione mafiosa che è una natura omertosa caratterizzata dal vincolo della segretezza bisogna penetrare questa segretezza e gli strumenti per penetrare la segretezza sono due. Uno è quello dato dai collaboratori di giustizia, l'altro è quello dato dallo strumento delle intercettazioni nelle varie dimensioni in cui questo strumento deve essere preso in considerazione. Perché? Sui collaboratori di giustizia che sono stati decisivi in un certo periodo del contrasto a Cosa Nostra noi oggi registriamo una flessione nella qualità e nel numero e questo non è un dato tranquillizzante. Nella qualità in qualche modo una volta assodato che l'organizzazione tende a diminuire la sua qualità, la sua capacità strategica è forse naturale non avere più i collaboratori della qualità del passato. Però non c'è dubbio che i collaboratori sono uno strumento ordinario di contrasto del crimine organizzato. Il fatto che non ne intervengano di nuovi e di un livello qualitativo medio-alto in parte dipende dall'attuale situazione storica in cui si trova Cosa Nostra però in parte dipende da una legislazione che in questo momento a nostro giudizio potrebbe essere migliorata in termini di elasticità della comprensione del fenomeno nel senso che quei 180 giorni iniziali sono uno strumento che probabilmente dovrebbe essere rivisto e chiarito nel termine di capire quali sono veramente i fatti indispensabili che devono essere ricordati in un certo periodo e quali quelli che invece non dico possono stare fuori ma è quasi naturale che vengano ricordati in un momento successivo e in un miglioramento di una macchina amministrativa che gestisce i collaboratori di giustizia che io conosco anche per esperienza personale per essere stato sette anni componente della commissione che si è occupata della gestione dei collaboratori di giustizia. Si tratta di persone quelle dedicate a questo lavoro di notevolissima qualità però lì qualche cosa in più probabilmente si può fare. L'altro strumento che in questo momento è davvero lo strumento decisivo è quello delle intercettazioni ripeto nelle varie forme in cui parliamo di intercettazioni. Intanto per un dato minimale se parliamo di crimine organizzato organizzazione vuol dire comunicazione i mafiosi fra loro non solo parlano ma è come se non parlassero non avremmo la mafia perché non avremmo la capacità di metterci d'accordo di mettersi d'accordo loro sugli affari da gestire quindi è del tutto naturale che delle comunicazioni avvengano e quindi è indispensabile che come abbiamo fatto per i patrimoni è naturale diventare mafioso per essere ricco e quindi è naturale per noi togliergli i patrimoni è naturale che loro parlino fra di loro e quindi è obbligatorio per noi cercare di entrare all'interno delle organizzazioni ascoltando i mafiosi che mafiano come si dice a Palermo. Questo pone una serie di problemi perché da un lato il meccanismo delle intercettazioni in questo momento paradossalmente ci colloca in una situazione di ritardo rispetto alle forme più evolute di comunicazione che le mafie usano. Avrete sentito parlare immagino di piattaforme criptate oltre che di deep web, noi oramai abbiamo una serie di comunicazioni importanti che le mafie praticano attraverso le piattaforme criptate rispetto a questi strumenti noi siamo in ritardo, altri paesi europei hanno forze di polizia che sono già riusciti a entrare in queste piattaforme, noi ancora noi quindi abbiamo un problema di adeguamento prima che normativo addirittura tecnologico da questo punto di vista e poi abbiamo naturalmente la necessità di avere un quadro giuridico stabile e un quadro tecnico di risorse forte per poter utilizzare questo strumento. Quadro giuridico vuol dire, intanto, e qui dico una cosa addirittura banale, è chiaro che le intercettazioni in maniera di criminalità organizzata, qualunque tipo di intercettazione è talmente importante che non posso immaginare riforme in senso, come dire, limitativo dello strumento. Però poi ci sono ad esempio una serie di evoluzioni giurisprudenziali che noi guardiamo con una certa preoccupazione, ad esempio in relazione alla definizione di criminalità organizzata perché attualmente alcune sentenze, sia pure isolate della Cassazione, fanno riferimento a una limitazione del concetto ai soli reati riconducibili all'articolo 51,3 bis del codice piaciuto da penale e 51,3 quater per i delitti di terrorismo, lasciando fuori dalla possibilità di intercettare con gli strumenti previsti per il crimine organizzato o alcuni reati e questo è pericoloso non soltanto perché in questo momento non si capisce che cosa è intercettabile e che cosa no, ma perché le conseguenze possono essere importanti dal punto di vista, ad esempio, dei termini delle indagini e dei tempi delle intercettazioni con conseguenze oggi non prevedibili ma domani quando ci sarà il processo sicuramente valutabili in maniera che non ci consente di prevedere. Una delle difficoltà del Pubblico Ministero, per cui è importante avere un quadro normativo stabile, è proprio quella di poter immaginare quello che accadrà in un momento successivo. Noi oggi perdiamo molti processi, grazie a Dio, non di criminata organizzata, né di dibattimenti, perché il decorso del tempo è tale che una testimonianza che magari è assunta a pochi mesi dal fatto, se io l'assumo a cinque anni dal fatto, non è semplice avere la stessa coerente versione che era stata data quando il fatto è avvenuto ed è una delle ragioni per cui, ma qui non parlo di criminata organizzata, parlo di funzionamento del processo penale e del suo dibattimento, è una delle ragioni per cui il numero di sentenze di assoluzione è eccessivamente elevato rispetto alle iniziative penali che il Pubblico Ministero propone. Quindi necessità di un quadro stabile da questo punto di vista, necessità di risorse stabili. Noi in questo momento, ma non solo noi Procura Distruttore Antimafia di Palermo, ma devo dire tutte le procure d'Italia, abbiamo dei problemi in relazione alla dimensione degli archivi riservati che la legge prevede che il Procuratore della Repubblica debba custodire, dove devono entrare come è noto le conversazioni non rilevanti ai fini del processo, perché gli archivi si fanno esaurendo. E lo stesso discorso vale nella fase attiva delle intercettazioni per la collocazione delle macchine, dei server che servono per le intercettazioni. Quindi anche qui c'è un problema di investimento e di rivisitazione in qualche misura della macchina. Dopodiché il sistema delle intercettazioni in questo momento da questo punto di vista indubbiamente funziona. Io penso di poter dire che ad esempio il tema della impermeabilizzazione delle intercettazioni non rilevanti, a seguito dell'intervenuta applicazione e attuazione della riforma Orlando in materia di intercettazioni, pone la parola finale, non ci sono intercettazioni non rilevanti che fuoriescano dagli archivi del Procuratore della Repubblica. Io sono stato procuratore di Messina e di Palermo, a me non è mai successo, ma non ho notizia di altri a cui possa essere accaduta una cosa del genere. Quindi intercettare le comunicazioni dei mafiosi rimane lo strumento fondamentale per capire non solo chi sono i mafiosi che i reati commettono, ma anche quali sono i loro programmi e le loro iniziative. E questo è l'ulteriore strumento indispensabile per poter continuare a proseguire le indagini verso questa organizzazione criminale, cosa nostra, che io ho detto più volte nel corso del mio intervento, si è indebolita, ma è tutt'altro che sconfitta. Questo è un tema da avere molto chiaro perché proprio in questi momenti di debolezza cerca di ristrutturarsi fondamentalmente attraverso due iniziative. Una iniziativa è quella della ricerca dei nuovi capitali, un'organizzazione impoverita prima di diventare forte militarmente deve diventare forte economicamente. E quindi noi osserviamo un reinato interesse verso i traffici di stupefacente, a diversi livelli, perché il traffico di stupefacente è intanto perché la droga, in particolare la cocaina, è probabilmente la merce al mondo che ha il valore aggiunto più alto, è notorio che se io investo 50 dollari in Colombia ricavo 50 mila euro dalla vendita di un chilo di cocaina, dello stesso chilo di cocaina sul mercato nazionale. E quindi la possibilità di accumulare capitali in questo modo, atteso che non solo bisogna accumularli, ma anche in tempi rapidi, molto efficienti, è nelle cose dell'organizzazione ed è cosa che l'organizzazione sta ponendo in essere adesso. Come? Con due iniziative che emergono in qualche misura dalle nostre indagini. una è il ritorno massiccio sul territorio, cioè quei fenomeni, quelli che con un linguaggio che non è siciliano sono le piazze di spaccio, insomma, comincia a non essere più appaltato a organizzazioni meno strutturate, penso alle organizzazioni criminali di importazione, famiglie nigeriane in particolare, centroafricane, eccetera, che tradizionalmente venivano delegate alla gestione della distribuzione dello superficiale sul territorio. Oggi no, l'organizzazione torna a gestire, sia pure a livelli bassi, anche questo pezzo di territorio, ma soprattutto riallacciando e riaprendo i rapporti con l'andrangheta. Noi abbiamo indagini recentissime che ci identificano come l'importazione venga mediata e accordata con famiglie andranghetiste per poter tornare poi sui mercati internazionali, perché in questo momento se è vero che l'andrangheta ha il monopolio sostanzialmente del brokeraggio dello stupefacente, in particolare della Sud America, è anche vero che un grande brand come quello di Cosa Nostra non si abbandona e quindi c'è un interesse anche dell'andrangheta in qualche modo a riallinearsi e comunque a creare affari insieme. I luoghi dove si creano affari sono pericolosi per la sicurezza dello Stato, perché sono affari criminali che rafforzano entrambe le organizzazioni. Ecco, in questo momento per accumulare capitali queste sono le due scelte che l'organizzazione fa, che non rinuncia ai suoi traffici tradizionali, che sono quelli relativi alla presenza sul territorio, quindi manifestazione della sua potestà sul territorio attraverso l'intervento massiccio in materia di estorsioni, e una rinnovata attenzione al tema degli appalti pubblici, perché in considerazione della crisi dell'organizzazione mafiosa, da un lato della mancanza oggettiva di appalti pubblici per un non breve periodo di tempo, è apparso come se l'organizzazione mafiosa fosse stata distratta rispetto alla gestione degli appalti pubblici. La situazione è diversa, soprattutto oggi, perché fra PNRR e altri denari che comunque dopo il Covid sono rientrati in circolazione, le imprese mafiose, che sempre sono esistite e continuano ad esistere, sono strutturate a vari livelli, innanzitutto quelle dove l'impatto tecnologico è minore, penso al trasporto terra, alle imprese delle edilizie e via dicendo, ma anche ad altri livelli, hanno un rinnovato interesse verso l'intercettazione degli appalti e uno dei problemi in termini di prevenzione sta non soltanto nelle nuove soglie che il codice degli appalti prevede per le aggiudicazioni e per i diversi moduli di aggiudicazione, ma soprattutto nel numero delle stazioni appaltanti che continua a essere assolutamente eccessivo perché le stazioni appaltanti per enti locali di modeste dimensioni consentono, una volta che l'organizzazione mafiosa sia infiltrata all'interno dell'ente locale, la gestione di tutto l'ente e delle stazioni appaltanti che l'ente gestisce. Ecco, questo è un altro di quei profili che il mio ufficio, la mia procura intende segnalare come luogo nel quale l'attenzione deve essere elevata perché, ripeto, una cosa è avere una stazione appaltante diciamo così collocata in una posizione più distante rispetto al territorio e formata da tecnici che hanno una loro riconoscibilità e onorabilità anche professionale, oltre che una retribuzione adeguata. una cosa è affidare la gara ad esempio personale di un ufficio tecnico di un comune con poche migliaia di abitanti, il cui tecnico appunto vive in quel comune e a mezzanotte di una sera qualsiasi d'estate si sente bussare alla porta ed essere convocato da quattro ceffi che gli spiegano come deve essere gestito l'appalto. È molto più difficile opporre una resistenza a questo tipo di pressione. Presidente, io credo di avere fatto un'introduzione soltanto di carattere generale e me ne scuso, ma naturalmente sia io che i miei procuratori aggiunti siamo a disposizione per tutti gli approfondimenti che immagino la Commissione voglia richiedere e anche per capire se nel quadro generale che noi abbiamo dato vi siano delle omissioni così gravi da imporci come dire di chiedere scusa alla Commissione stessa. Grazie. Ci mancherebbe procuratore? Assolutamente no, però è molto gradito ai commissari immagino fare domande. Io mi permetto di anticiparli soltanto perché è ovvio ed è naturale che in questi mesi si sia a lungo parlato dell'arresto di Matteo Messina Denaro a cui lei più volte ha fatto riferimento. Ecco, in quella sede, in una delle sue interviste, io ho trovato particolarmente interessante un passaggio che lei fa sugli aspetti penali, ovviamente in riferimento al reato di concorso esterno in associazione. Le faccio questa domanda per sgombrare il campo da ogni dubbio, ma soprattutto per provare a capire come la Commissione può sostenere e anche utilizzando quel termine che lei ha utilizzato in un'altra intervista trattando di problema civile, come noi possiamo affiancare, non sostituire, non interferire il lavoro che lei sta facendo in sede giudiziaria. E questo lo dico perché è evidente che noi abbiamo una necessità e quella necessità come organo politico è la necessità di un risveglio delle coscienze civili, se così vogliamo dire, e anche una curiosità su come alcune relazioni, complicità ed omertà possano essere sconfitte insieme. E quindi la prima gravissima missione l'avevo commessa perché mi ero riservato di considerare poi una delle cose fondamentali che distingue Cosa Nostra da tutte le formazioni criminali ordinarie, cioè il suo storico rapporto con l'esterno, cioè con entità diverse che in senso ampio possiamo indicare come la politica, ma dove per politica indichiamo non soltanto gli eletti, ma naturalmente tutto il mondo delle amministrazioni e in qualche misura tutto il mondo delle professioni. Perché se Cosa Nostra è stata ed è Cosa Nostra, questo dipende anche dal fatto che c'è da sempre uno scambio reciproco di, chiamiamoli favori, fra l'organizzazione mafiosa e altri mondi. A questo proposito citavo prima il tema degli appalti, perché il tema degli appalti è anche un canale di comunicazione, devo dire storico, fra l'organizzazione mafiosa e gli altri mondi, perché attraverso le rassicurazioni nella gestione degli appalti, gli interventi nei finanziamenti degli appalti che in passato ci sono stati e sono stati oggetto di processi istruiti dalla Procura di Palermo e le garanzie anche di pace sociale all'interno dei cantieri si sono intesi realizzare dei favori che sono stati ricambiati dal mondo delle imprese, anche qui non generalizzo ma così è, che hanno consentito di creare poi quei tavolini, per usare l'espressione che usò un importante uomo d'onore negli anni 90, al cui tavolo si sedevano imprenditori politici e mafiosi, ciascuno ricevendo importanti vantaggi dal tavolino stesso, vantaggi che indico perché poi è utile per guardare al futuro e al tema dell'infiltrazione oggi nel mondo degli appalti perché l'appaltatore utilizzando il meccanismo delle cosiddette griglie sapeva prima quale appalto avrebbe conseguito e quindi non aveva tutti i problemi relativi ai costi di progettazione per appalti, quindi non avrebbe concorso utilmente. Il politico, anche qui ripeto in senso ampio, era colui il quale avrebbe ricevuto una tangente per favorire l'intera catena di aggiudicazione dell'appalto, per capirci non soltanto chi prevede il finanziamento ma anche il funzionario che ha le chiavi della stanza del sindaco all'interno della quale sono custodite le buste in cui sono presentate le offerte rispetto alle quali se c'è un imprenditore riottoso, l'ultima cosa che si fa è sparargli, la prima cosa è togliere dall'abusto un documento per farlo escludere dalla gara e infine i mafiosi che non soltanto ricevevano la loro quota di tangente ma soprattutto si potevano sedere a questo tavolo per iniziare altre discussioni diciamo così anche in termini di modifiche di piani regolatori quando non arrivare poi a livello della politica alta e quindi ottenere o avviare ragionamenti in materia di modifiche legislative a loro utili. Dunque questo tipo di rapporti sono rapporti che noi abbiamo perseguito utilizzando lo strumento del 110 e 416 bis per venire al cuore della sua domanda, cioè del concorso esterno di un'associazione mafiosa, tema che per la verità è in discussione credo dal 1930 perché nel trattato di diritto penale di Manzini si pone il problema del rapporto fra il 110 e 416 bis e in realtà fin da allora si disse che il problema non è la partecipazione all'associazione ma è il concorso, cioè tutte le volte in cui un soggetto che non compie la condotta descritta dalla norma ma che dà un contributo alla realizzazione dell'evento previsto nella norma o non lo punisco oppure lo devo perseguire con le regole del concorso. Se io do una pistola a un soggetto e quello poi ammazza qualcuno, se io so che quella pistola serviva per ammazzare qualcuno io non è che ho fatto un'accessione di un'arma, ho dato un contributo causale a realizzare un omicidio e per il concorso nell'associazione mafiosa è esattamente la stessa cosa. Se io sono un sindaco che sistematicamente favorisce con delle condotte abusive in violazione delle norme ad esempio in materia di licenze edilizie la costruzione di abitazioni che favoriscono il mafioso che ha le imprese e che costruisce in quell'area, questa cosa allo stato attuale della legislazione si persegue in due modi, o applicando più ipotesi di 323 di abuso d'ufficio oppure applicando il concorso esterno una volta che ho la prova dell'elemento psicologico e cioè della consapevolezza di porre in essere gli abusi per favorire l'organizzazione mafiosa del mafioso contesto il 110 e 410 bis. Poi per carità lo strumento siccome è oggettivamente delicato può essere oggetto di una riflessione, ad esempio al giorno d'oggi c'è una giurisprudenza molto consolidata per alcune condotte, penso proprio ad esempio agli imprenditori che potrebbe essere normata con una modifica legislativa, ma sul lato del 416 bis nel senso di individuare ulteriori forme tipizzate di condotta che non è più di concorso esterno ma di vera e propria consumazione del reato come previsto dalla norma, ma in ogni caso mi pare assai difficile immaginare di non ricorrere più a uno strumento che, ripeto, esiste nel sistema del 1930, ma non è che perché esiste nel sistema non si può toccare, perché intanto non solo si è rivelato uno strumento utile ed è lo strumento corretto, a mio giudizio, per colpire quei disvalori che hanno comunque una valenza sotto il profilo dei beni giuridici costituzionalmente protetti che devono essere protetti dalla norma penale, ma perché il sistema lo consente e in qualche misura lo impone e quindi noi possiamo rivisitare l'area di applicazione del concorso esterno ma soltanto individuando delle fattispecie ulteriormente tipizzate dal punto di vista della legge penale. Immaginare altre forme di riesame del concorso esterno e un'abolizione to-cour dell'istituto mi pare davvero, davvero difficile. Grazie davvero procuratore per questa sua aggiunta che non è soltanto un'aggiunta diciamo di colore o di borghesia come la chiamata mafiosa, ma anche che specifica verso cosa stiamo andando e di che cosa abbiamo bisogno. A questo punto ho iscritto a parlare, se ci sente, l'onorevole Barbagallo che sta collegato da remoto, accenda il microfono. Perfetto, prego. Presidente, Presidente. Grazie Presidente, io ringrazio il procuratore per la relazione puntuale, attenta su diversi aspetti anche sull'inquadratura del fenomeno mafioso in questo momento in Sicilia. Io volevo chiedere in particolare questo, l'impressione che negli ultimi 20-25 anni attorno al sistema dei rifiuti in Sicilia si siano creati una serie di attenzioni particolari della criminalità organizzata, del sistema mafioso che riesce a utilizzare bene non soltanto i monopoli, alcuni oligopoli che ci sono sia nel sistema delle discariche sia nel sistema della raccolta dei rifiuti e quindi a suo giudizio le volevo chiedere quali sono i possibili correttivi proprio dal punto di vista normativo, perché anche in considerazione alla legislazione speciale siciliana, perché più volte è intervenuta anche la Corte dei Conti chiedendo che le società di raccolta dei rifiuti venissero trasformate da privata pubblica e questo nella relazione del 2016 o più volte noi abbiamo chiesto a gran voce di escludere categoricamente il divieto di subappalto perché l'impressione che abbiamo è che in alcune zone nonostante i cambi la giudicatari o poi il subappaltatore è sempre lo stesso e questo crea un circolo vizioso che è veramente preoccupante. 6.000, procedo con tre domande, poi le risposte e poi altre tre domande così i lavori sono più ordinati. Ho il senatore Scarpinato. Sì, in questo momento sono in discussione alcune proposte di legge che potrebbero avere delle gravi ricadute nella capacità di risposta repressiva dello Stato nel confronto alla mafia. E a riguardo vorrei la sua opinione. La prima è la proposta del Ministro Nordio, che è sposata anche da alcune forze della maggioranza governativa, di impedire l'uso delle intercettazioni e in particolare del Trojan per reati contro la pubblica amministrazione della corruzione, perché ritenuti non sufficientemente gravi da giustificare il sacrificio della privacy rispetto all'esigenza della collettività. A riguardo, il procuratore Melillo ha evidenziato che ormai le forme più evolute della mafia non sono quelle che si dedicano all'attività predatoria classica dell'estorsione, eccetera, ma quelle che si muovono sul terreno degli affari dei colletti bianchi, proprio i reati contro la pubblica amministrazione, come per esempio le indagini del Centro Nord. La maggior parte delle indagini sulla mafia è stata possibile realizzarle iniziando da indagini che riguardavano la corruzione. A sua volta il procuratore della Repubblica di Roma ha detto che anche a Roma molte delle indagini che sono iniziate per la corruzione poi hanno portato a scoprire che dietro c'è un reticolo in mafiosi, tanto che oggi si parla di mafia o corruzione. La prima domanda è se non richiede che impedire l'uso delle troie all'intercettazione per i reati di corruzione possa avere ricadute negative. La seconda domanda mi aggancio a quello che lei ha detto a proposito degli appalti. Sono in corso delle proposte di abolizione del reato di abuso d'ufficio, di ridimensionamento forte del reato di traffico di influenza, nello stesso momento in cui il codice dell'appalti ha fortemente aumentato il tasso di discrezionità alla spesa pubblica. Lei ha fatto accenno. Allora io le chiedo se queste iniziative possono determinare un ulteriore abbassamento del livello di risposta. Ha tenuto conto che l'abuso d'ufficio sostanzialmente attualmente esiste soltanto nella limitata forma della violazione dell'obbligo della stenzione e della violazione delle norme specifiche alle quali non residua alcun margine di discrezionalità. Ha tenuto conto che la nuova normativa sugli appalti ha previsto la possibilità di bandire gare sino a 10 milioni di euro, apro parentesi il 95% delle gare toccano questa soglia, limitandosi a chiamare, a invitare, quindi facendo uso della discrezionalità, 5 ditte per le gare sino a 5 milioni e 10 ditte per le gare sino a 10 milioni. Il fatto che non c'è gara significa che non solo non si può contestare il reato di abuso d'ufficio perché l'esercizio dell'escrezionalità non è più sindacabile ma non si può contestare neanche il reato di turba di vadasta, quindi salta un doppio livello di controllo legale. Ancora si discute in Commissione Giustizia a proposito della riforma e dell'intercettazione sulla possibilità di impedire l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni quando le intercettazioni sono state disposte per un reato e durante l'ascolto sono stati accertati altri reati per i quali le intercettazioni sono ammesse alla legge, cioè per reati con pena superiore a 5 anni. Io le chiedo, in base alla sua esperienza, sono le cosiddette intercettazioni astrascico. Se la intercettazione astrascico, per quanto riguarda la criminalità astrascico, cioè la criminalità mafiosa, che non è che si limita a compiere un reato una volta, ma che hanno vista le crimine e che nella sua attività compie reati di vario genere, non siano lo strumento che consentono, partendo per esempio dalla intercettazione di un'estorsione e poi di accertare un riciclaggio, un omicidio, l'aggiustamento di un appalto, e quindi l'inutilizzabilità delle intercettazioni disposte per un reato o per altri reati non possa a sua volta compromettere la risposta dello Stato alla criminalità mafiosa. Grazie. Emile, Senatore Salemi e poi lasciamo rispondere. Grazie Presidente, grazie Procuratore per la sua chiara illustrazione. Io vorrei fare una riflessione, se mi consente Presidente, partendo anche da una sua domanda e per fare chiarezza anche nei confronti degli interventi che magari ci sono stati e ci saranno. È chiaro e evidente che sul tema delle intercettazioni e soprattutto sul tema del concorso esterno non vorrei che si commesse, si commettesse un errore interpretativo. Noti esponenti del governo autorevoli hanno chiaramente più volte ribadito, e questo è stato fatto anche in Commissione di Giustizia, che sia per il 41 bis, sia per l'intercettazione, sia per il concorso esterno non c'è nessuna volontà di limitare la capacità offensiva delle procure nei confronti dell'organizzazione criminale di stampo mafioso. Questo è giusto dirlo per fugare il campo da ogni interpretazione distorta e sbagliata. Questo ci tengo a precisarlo, Presidente, quindi mi scusi se ho fatto questa puntualizzazione. Una domanda, Procuratore, sul fenomeno Stiddaro, nello specifico. È un fenomeno che si evolve nella zona dell'Agrigendino ma lambisce anche la provincia di Ragusa. Essendo io vittoriesi ho vissuto negli anni 90 una delle peggiori faide criminali che hanno colpito la città di Vittoria, il ragusano, lo scontro fra il canna dominante Carbonaro. In riferimento alla recrudescenza del fenomeno, cioè il fatto che fenomeni di associazione criminale di tipo Stiddaro stiano ricominciando a galoppare in quella zona, può dipendere dal fatto che molti esponenti o affiliati arrestati negli anni 90 stanno ritornando in libertà e quindi questo ritornare in libertà può condizionare e far aumentare la capacità, tra virgolette, bellicosa di questa organizzazione criminale? Se sì, magari mi dà il suo parere, se no, quale allora può essere il motivo per cui un fenomeno criminale che negli ultimi 15-20 anni, diciamo, era sostanzialmente, si era ridotto nella sua capacità di fuoco, definiamolo così, stia di nuovo spuntando. Un'altra domanda riguarda, e poi mi taccio Presidente, un'altra domanda riguarda la vicenda Matteo Messina Denaro, il fatto comunque che sia stato detto da un noto esponente che Matteo Messina Denaro era, diciamo, in condizioni di poter circolare liberamente o era in condizione di muoversi liberamente o che addirittura si sapeva che si fosse consegnato spontaneamente alle forze dell'ordine sia trapelato da soggetti che erano nel regime di 41 bis, la domanda è, lei ritiene che ci siano, diciamo, che le informazioni segretissime possano uscire fuori da questo regime e quale è il suo punto di vista in questo senso? Grazie, grazie mille, prego, prego procuratore. Allora, grazie. Tema dei rifiuti, che è una delle emergenze siciliane, ma non da oggi, da sempre direi, si ricollega al tema delle gestioni degli appalti. Ora, in questo momento non abbiamo evidenze di infiltrazioni per quanto riguarda la mia area territoriale, cioè la Sicilia occidentale, attive in materia di appalti e non abbiamo particolari procedimenti che riguardano questa materia, però la materia è la stessa a cui ho fatto cenno quando ho parlato degli appalti. Quindi, dal punto di vista, come dire, della prevenzione, torniamo a due questioni. Una è la trasparenza nella giudicazione degli appalti, e anche qui bisognerebbe prima capire quali, e l'altra, e questo è un tema invece su cui siamo particolarmente attivi, è quella della gestione dei subappalti, perché oggi non abbiamo imprese mafiose di grandi dimensioni, ma continuiamo ad avere un rilevante numero di imprese mafiose che gestiscono proprio il sistema di subappalti, anche sostituendosi agli ordinari aggiudicatari del subappalto. E lo strumento che dobbiamo utilizzare è duplice. Da un lato, ma questo la legge regionale siciliana lo prevede, è la tracciabilità dei finanziamenti e soprattutto del pagamento, ad esempio, delle retribuzioni per i lavoratori, salvo che naturalmente non vi sia poi un accordo occulto per cui quanto si è versato viene restituito in contanti, il che ci è capitato di riscontrare. E l'altra questione dipende dal nostro lavoro e dal lavoro delle polizie giudiziarie, che ho dimenticato di ringraziare, ma senza le quali naturalmente nulla di quello che noi facciamo sarebbe possibile, e cioè il controllo sul campo, nel senso che non bastano né i controlli formali, né i controlli telematici, con qualunque forma di intelligenza si voglia, se noi prima non abbiamo personale che sia in grado di fare un oculato servizio di osservazione per vedere la cosa fondamentale, perché anche se è rispettata l'intera catena di aggiudicazione dell'appalto, noi poi ci troviamo con il camion che è anche dell'impresa che si è aggiudicata il subappalto, ma guidato dall'esponente della famiglia mafiosa o da chi l'esponente della famiglia mafiosa ha designato. Quindi in via del tutto generale le indicazioni sono il massimo della trasparenza nella giudicazione degli appalti e controlli in materia di subappalti che solo in parte dipendono dall'autorità amministrativa e in larga misura dipendono dal tipo di attività che noi svolgiamo. Tema delle intercettazioni. Allora qui intanto devo dire che io sono il procuratore della Repubblica di Palermo, quindi sono un magistrato e quindi io per primo mi inchino alla sovranità del Parlamento, qualunque cosa il Parlamento decida, è il nostro dovere semplicemente porlo in esecuzione. Però quando veniamo consultati come tecnici nelle varie audizioni che ho già avuto in Commissione di Giustizia e anche in questo momento io ho il dovere di dire le cose in maniera assolutamente laica ma anche in maniera concreta, altrimenti non daremmo nessun contributo alla vostra capacità di decidere e non avrebbe neanche senso la nostra presenza qui. I reati di corruzione sono da un lato un profilo moderno ma anche antico di come la mafia agisce. La mafia ha come caratteristica fondamentale l'uso della violenza, ma questo è anche l'estrema razio dell'organizzazione mafiosa. I 30 anni di dominio corleonese hanno significato in qualche misura un'inversione del ragionamento ordinario dei mafiosi, cioè ricorrere in maniera massiccia ed evidente alla violenza, prescindendo da tutti gli altri strumenti che si devono usare nell'insegnamento mafioso prima della violenza. La violenza sta tornando a essere quello che è sempre stato, cioè l'estrema razio dell'organizzazione mafiosa. Ci deve essere consapevolezza da parte delle vittime che la mafia è in grado di usare la violenza, ma c'è consapevolezza da parte della mafia che si deve usare soltanto quando davvero serve. E quindi si devono usare tutti gli strumenti alternativi, ma la differenza fra ambienti criminali non mafiosi e mafiosi, ripeto, sta nel fatto che al fondo comunque ci sono quelli che sparano e che sono capaci di sparare. Dopodiché qualunque mafioso utilizza tecniche di infiltrazione in qualche misura. Quello che quando parliamo di pubblici funzionari o di politici loro usano il termine ce lo siamo messi nelle mani. Cioè io realizzo una serie di favori per il mafioso e il mafioso è consapevole che da quel momento tu non gli potrai più dire di no. Sei nelle mani dell'organizzazione mafiosa. E lo strumento con il quale questo si attua è lo strumento corruttivo. Tu prima gli fai il favore al pubblico funzionario, al politico, a chi vogliamo. A quel punto quello non si può più tirare indietro e il meccanismo corruttivo è avviato. La corruzione ha una caratteristica come reato che è assolutamente simile a quello mafioso. Abbiamo detto che la mafia è caratterizzata dall'omertà e anche nella corruzione è così. Nel corrotto o nel corruttore hanno in questo momento un interesse a denunciare la corruzione. Perché dovrebbero? Anche il meccanismo previsto, credo dal 322, bis o terno, ricordo bene, non è un meccanismo in questo momento incentivante. Io non credo di conoscere un avvocato che abbia mai suggerito al suo assistito i meccanismi di collaborazione previsti perché oggettivamente non convengono. Non convengono anche per tutta un'altra serie di ragioni relative al funzionamento del nostro processo penale. In questo momento fatto sta che non si registrano forme di collaborazione. E quindi anche lì se il reato è un reato chiuso fra i due soggetti che lo commetto e nessuno mi viene a dire che è stato commesso, io ho un solo strumento, che è quello di andarli ad ascoltare. Torniamo quindi alla necessità dell'uso delle intercettazioni. Io qui ribadisco che la scelta è esclusivamente politica, nel senso che se si vuole fare un'attività di repressione del fenomeno corruttivo bisogna pensare all'utilizzo di strumenti che sono anche particolarmente invasivi, come certamente particolarmente invasivo è il Trojan. Il Trojan è davvero uno strumento invasivo perché entra nella vita delle persone, perché nel momento in cui io entro in uno smartphone scopro tutto di quella persona, quindi è vero che devono essere approntate delle misure idonee a bilanciare gli interessi in gioco. Ma questo vuol dire un più puntuale controllo da parte del giudice delle indagini preliminari in sede di autorizzazione all'uso dello strumento un più puntuale controllo in materia di proroghe delle attività di intercettazioni, che devono essere evidentemente motivate in maniera più puntuale, ma non credo possa voler dire la rinuncia a questo strumento in una situazione nella quale il fenomeno della corruzione, io come dire, ho sempre avuto delle perplessità rispetto alla corruzione percepita, perché percepita è quella che si dice, però da quando sono procuratore della Repubblica, prima a Messina e poi a Palermo, i casi di corruzione e i casi di rinvenimento di somme di denaro assolutamente ingenti custoditi a casa delle persone in contanti, nei sacchi di, io non vi faccio vedere le clip che la Polizia Giudiziaria in sede di sequestro fa, ma ci sono banali funzionari neanche in un grado molto elevato della loro amministrazione, a casa dei quali sono stati trovati sacchi di denaro per 5-600 mila euro rovesciati, che sono frutto di corruzione. Poi ripeto, l'importante è avere consapevolezza che il fenomeno esiste, poi sta al Parlamento dare un giudizio sulla gravità o meno di questo fenomeno, che se si vuole contrastare in quanto tale l'uso dello strumento intercettivo è indispensabile, ma che questo uso dello strumento intercettivo deve essere evidentemente regolato in maniera puntuale, questo ci mancherebbe che non fossimo d'accordo. Avendo però la consapevolezza che non per la parte dell'intercettazione che si svolge, ma per la parte dell'intercettazione non rilevante in materia processuale, oggi gli strumenti per fare sì che quelle intercettazioni non escano dal famoso archivio riservato mi pare un dato di fatto accertato. Sul 323 io penso di avere già detto, sono stato anche audito in Commissione Giustizia, le nostre perplessità su un'abolizione tucur di questo strumento sono molto forti, perché a parte i vincoli europei e quant'altro, ma è un po' quello che ho detto quando ho fatto riferimento alla questione del sindaco che rilascia un numero significativo di concessioni edilizzi in favore dell'impresa mafiosa. Se non c'è il 323 qui come agiamo, con quale strumento? Anche qui, ripeto, si creerebbe un vulnus al sistema, perché il 323 è parte di un sistema. Ora, se è vero che il procuratore di Roma ricorda come dai processi di pubblica amministrazione si arriva alla criminalità organizzata, a Palermo dove i processi di criminalità organizzata non sono mai mancati, da quei processi noi siamo arrivati anche per completare il quadro dei soggetti indagati, imputati e poi da processare a diverse contestazioni di abuso d'ufficio per quei soggetti magari minori nella la pianificazione del delitto che però una serie di attività di favore naturalmente sussumibili sotto la fattispecie del 323 avevano posti in essere. Per andare sul caso concreto non so chi possa avere memoria perché mai è passato molto tempo ma c'è stato un imprenditore anche del settore della sanità siciliano che era anche il secondo contribuente siciliano del tempo che fra i tanti reati che gli vennero contestati c'era una megatruffa nell'ordine di diverse decine di milioni di euro in danno della regione siciliana, questo reato comportava poi che tutta una serie di funzionari minori dell'amministrazione che in qualche modo chiudevano un occhio ma in realtà consumavano la fattispecie del 323 consentissero la formazione di queste fatture che consentivano pagamenti totalmente abnormi per delle cure mediche e quei soggetti sono stati perseguiti attraverso l'applicazione del 323. Quindi per carità io sento che noi dobbiamo segnalare la problematicità dell'assenza eventuale di questo reato così come però dobbiamo anche ricordare che una modifica, un'abolizione del 323 ragionevolmente comporterebbe una espansione di altri reati, cioè non è che non si indagherebbe più perché ragionevolmente le indagini avrebbero un'altra forma di iscrizione, potrebbe essere l'elemento indiziante quello che importa un'iscrizione per un reato di corruzione ma potrebbe anche essere un ampliamento dell'area del cosiddetto peculato d'uso che era scomparso e che invece potrebbe ritrovare una sua collocazione nel nuovo ordinamento monco di questa norma. Sono una serie di criticità che noi abbiamo già evidenziato e che continuiamo però a dire attenzione quando si tocca un punto del sistema perché questo sistema poi potrebbe risentirne tutto e non è detto che l'abolizione risolva il famoso problema della paura della firma anche perché la paura della firma, cioè nella fase procedimentale tutti possiamo essere oggetto di un'indagine penale e bisogna ridimensionare anche il fenomeno al fatto che l'iscrizione e l'avviso di garanzia per questo reato sono una parte, appunto si chiama avviso di garanzia per questo, poi certo se c'è una speculazione politica sul fatto che un soggetto è investito in avviso di garanzia lì siamo in una fase che non riguarda più noi tecnici del diritto ma riguarda una questione politica ma torno a dire l'avviso di garanzia in sé non dovrebbe comportare null'altro che il fatto che il cittadino sa che c'è un'indagine nei suoi confronti e quindi deve apprestare le sue difese. Non sempre la responsabilità è di chi fa l'avviso di garanzia ma di chi usa, se guardiamo le amministrazioni comunali molto spesso quello che si verifica è che è l'opposizione che una volta che non viene soddisfatta la sua richiesta denuncia gli esponenti della maggioranza per abuso d'ufficio. Poi bisognerebbe discutere sulla qualificazione esatta del concetto di notizia di reato ma alcune procure iscrivono la denuncia e quello diventa una iscrizione per 323 ad esempio del sindaco ma il sindaco è semplicemente iscritto perché il suo oppositore politico l'ha denunciato. Dopodiché si farà l'indagine e molto spesso l'indagine non porterà a nulla o se porta a qualche cosa non sarà certo per la denuncia ma perché quella notizia di reato ha originato un'indagine che ha una sua sostanza. Quindi anche qui non vorrei che abolito il 323 e poi ci trovassimo davanti a denunce per 353 o per 346. Quindi non è detto che sia risolutivo per quanto riguarda il tema della paura della firma e però ripeto io comincerei a preoccuparmi nel momento in cui scattano le garanzie del processo e cioè vengo chiamato con un 415 bis a prepararmi a diventare processo. Prima è solo una questione di garanzia ed è anche una questione culturale nel comprendere qual è l'effettivo valore di un avviso di garanzia. Intercettazioni cosiddette a strascico. Io però non le chiamerei intercettazioni a strascico francamente perché quello secondo me è un fatto abnorme e che deve essere censurato. Non si intercetta così per vedere che cosa succede. Qui va richiamata la funzione del controllo da parte del giudice che è il giudice delle indagini preliminari nel momento in cui gli viene chiesta l'intercettazione. Dopodiché una volta che l'intercettazione è autorizzata in presenza dei presupposti di legge quello che viene dall'intercettazione è assai difficile anche dal punto di vista come dire non più giuridico ma davvero di fatto immaginare che se c'è un reato grave sopra i cinque anni perché già la legge fa un discrimen che non è quello per il quale è stata autorizzata l'intercettazione si debba rinunciare all'utilizzo delle informazioni acquisite in quella intercettazione che però insisto non è l'intercettazione a strascico. L'intercettazione a strascico è una questione assolutamente deleteria. Nel mio ufficio non esiste questa parvenza di istituto perché se l'intercettazione non produce un qualche risultato nei termini di legge la conseguenza è che l'intercettazione cessa non che si continua in eterno a fare intercettazioni nei confronti di alcuno. questione della stidda è questa. Ora non sono in grado di indicare naturalmente una causa perché questo dipende da molte questioni dipende anche dall'indebolimento della cosa nostra nell'agricentino su cui però noi abbiamo acceso un faro perché non dico che ci siamo distratti perché non è così però noi abbiamo fatto in questi anni un massiccio investimento sul palermitano da sempre e sul trapanese per le evidenti ragioni che c'era un'esigenza secondo me doverosa nei confronti dello Stato cioè quella di cercare di catturare Matteo Messe Denaro. Non ci siamo distratti sull'agricentino però oggi che abbiamo recuperato energia abbiamo ristrutturato il nostro ufficio dedicando un'area ai magistrati esclusivamente al contrasto della cosa nostra e quindi della stidda agrigentina. C'è un dato però che voglio segnalare a proposito del fenomeno della stidda che abbiamo riscontrato mi deve dare però il tempo di trovare l'appunto eccolo qui e cioè che noi abbiamo trovato che alcuni storici appartenenti all'organizzazione sono ritornati a svolgere attività legate alla organizzazione stessa dopo aver attenuto la declaratoria di impossibilità della collaborazione. Hanno cioè sfruttato la disciplina premiale prevista per i detenuti ergastolani per ritornare ad agire sul territorio con i metodi già collaudati in passato e così hanno rivitalizzato in qualche misura la stidda stessa. Cioè l'istituto della impossibilità della collaborazione è stato usato da soggetti che sì non potevano pentirsi ma hanno goduto della possibilità del pentimento impossibile per tornare a questo in qualche misura è merito loro che sono stati bravi nel fare passare questa cosa e in qualche misura è anche colpa nostra nel senso che le nostre investigazioni non sono state capaci di prevedere la non interruzione di quei contatti con l'ambiente criminale che appena usciti hanno ripristinato. Le nostre indagini, qui cito un'indagine del febbraio del 2021, questo lo hanno evidenziato e questo è uno dei segnali di carattere più generale che ci induce a prestare particolare attenzione rispetto a questi istituti. Credo che possa rispondere solo alla sua domanda Presidente perché lei mi ha chiesto, non dico il ruolo della Commissione, non siamo certamente noi a poter indicare questo ruolo, però il problema che noi abbiamo registrato con la latitanza di Matteo Messinerano ma sul quale noi abbiamo indagini attivissime in questo momento perché naturalmente noi il 16 gennaio lo abbiamo arrestato dal 17 gennaio perché qualche ora di legittima soddisfazione ce la siamo presa, dal 17 gennaio abbiamo ricominciato queste investigazioni e quello che possiamo dire in termini generali è che è vero che c'è una importante area di quel territorio che diciamo così per usare un eufemismo avrebbe potuto dare un contributo a trovarlo prima e non lo ha fatto. Noi però in questo momento le nostre indagini sono volte anche individuare chi in quell'area non solo non ha dato il contributo che come dire quello è un gesto di impegno civile ma non importa una responsabilità penale, chi invece una responsabilità penale ce l'ha. Quindi una parte delle nostre investigazioni in questo momento guardano a quello. Dopodiché c'è questa grande domanda, io condivido pienamente l'intento della Commissione se è quello di cercare di capire perché ancora in alcune zone del nostro territorio in particolare di quello siciliano si individuano consistenti sacche di, diciamo così, non voglio usare il termine collateralismo, però è quello il termine in realtà, o di distrazione. Beh, io sono un procuratore della Repubblica, il compito mio e dei miei colleghi è quello di fare i processi, quindi di individuare i colpevoli dei reati e di ottenere la condanna loro a una giusta pena, però non c'è dubbio che qui il tema è quello dello sviluppo culturale ed economico di quelle terre, perché senza lo sviluppo culturale ed economico di quelle terre noi avremo sempre un ambiente favorevole al lavoro delle organizzazioni criminali. E anche lì dove si creano, come dire, fenomeni virtuosi di ricchezza, il rischio dell'inquinamento è altissimo. Per cui il grande sforzo che la Commissione vorrà fare nel cercare di individuare in dettaglio quali sono gli approfondimenti su questo tema è sicuramente apprezzabile, però io penso di poter dire che davvero uno sforzo di tutto il Paese è quello di creare le condizioni dello sviluppo, perché senza quello noi continueremo ad avere insegnanti che vengono arrestate per questo tipo di attività e questo è un fatto gravissimo. Io non do giudizio e ci mancherebbe altro in un procedimento che è ancora in corso, però certo deve fare riflettere che in ambienti che non sono quelli dove noi ci aspetteremmo di trovare il mafioso, ma ambienti nei quali si formano i giovani, si possono verificare fenomeni di questo genere. Grazie Procuratore, credo che la vostra legittima soddisfazione sia condivisa da tutti i membri di questa Commissione e quindi la capiamo perfettamente. Sarà mia premura, nostra premura approfondire, magari anche venendo in sede, quando questo non interferirà con le indagini in corso per capire come raccontare a delle giovani generazioni anche degli eroi positivi che magari poi alla fine sono vincenti rispetto a quelli negativi. Ho altri iscritti a parlare, ho all'onorevole Provenzano. Grazie Presidente, partirei proprio da queste ultime parole per rivolgere anche io un ringraziamento al Procuratore attraverso di lui, al Dottor Guido e a tutti gli altri che hanno lavorato a una cattura che ha messo in discussione proprio il mito dell'impunità, cioè l'idea che ci possa essere qualcuno al di sopra della legge, al di sopra dello Stato e tuttavia mi permetto Procuratore di chiederle su questo maggiore precisione su quello che emerge senza entrare nelle indagini in corso su questa latitanza, sulla rete di complicità. In particolare mi chiedo una domanda che le pongo in maniera così molto secca, cioè se la grande disponibilità di contante, la grande disponibilità di utilizzo del contante quanto abbia favorito la latitanza e anche la vita che Matteo di Sina Denaro ha svolto nel corso di questi mesi e se alla luce non necessariamente delle indagini in corso ma delle tante indagini che hanno via via sempre più ristretto e tagliato la rete di complicità e di protezione intorno a Messina Denaro, emergono ulteriori elementi di conoscenza che al suo avviso possono essere utili a questa commissione in particolare sulle relazioni con per esempio le associazioni segrete come la massoneria in quel territorio o comunque con quei soggetti che in quel territorio che ricordo qui è uno dei territori più sviluppati della Sicilia, dimostrazione che intendo quella provincia, con con chi condivide con l'organizzazione criminale mafiosa un effettivo controllo al governo di quel territorio. Sempre sul tema Messina Denaro, lei ha fatto un'affermazione molto interessante in cui dice che le organizzazioni criminali mafiose si distinguono per la continua necessità di ricerca di un capo o di qualcuno che possa dirigere e comandare. Quindi alla luce di questo mi chiedo se, senza necessariamente entrare nelle indagini in corso, emergono elementi utili a suo avviso a questa commissione sui nuovi assetti che si possano determinare pur fuori dalle mitologie, su capi dei capi eccetera ma che possono essere utili a una maggiore comprensione del fenomeno. E ancora su Messina Denaro mi permetto di chiedere sull'ingente patrimonio di capitali che, diciamo su questo come è noto c'è una letteratura sui capitali di cui si è persa traccia a 30 anni alla stagione stragista di Cosa Nostra, che tipo di attività anche le connessioni internazionali sono via via emerse, quali sono i paesi che oppongono e frappongono maggiori ostacoli a un'azione di ricerca di questi capitali? Io avrei mille domande, provo a concentrare invece su alcuni elementi a mio avviso molto interessanti che lei ha toccato di un certo ritorno all'antico, seppur con metodi e con tecnologie moderne di Cosa Nostra nel controllo del territorio attraverso appalti, estorsioni e spaccio di droga. Su appalti, molto utile io credo l'indicazione che qui è stata data su una concentrazione delle stazioni appaltanti, ricordo che in Sicilia sono più di 400, è un tema antico ma io credo che sia molto opportuna questa sottolineatura, alla luce della stagione di investimenti enorme che si apre, ci sono evidenze, lei ha accennato al famoso sistema del tavolino, che qualcosa del genere o ci sia un tentativo di ricostruire quel tipo di sistema, anche perché non vorrei essere troppo pessimista con la ragione, ma l'assenza di un quel tipo di sistema potrebbe innescare invece fenomeni anche di conflitto molto intenso alle organizzazioni criminali nella vicenda degli appalti. E se si è parlato qui di abuso d'ufficio, concorso esterno, non ci torno, ma se invece a suo avviso norme come appunto le nuove norme sul codice degli appalti possano esporre gli amministratori, questa è la domanda, a un più forte condizionamento dalle organizzazioni criminali, perché quando lei prima parlava di buste, ma adesso le buste non ci saranno più, nel senso che si faranno gli inviti e se ci saranno inviti appunto si potrebbe dire che non si possono rifiutare, quindi c'è una maggiore esposizione degli amministratori oltre al tema della liberalizzazione dei subappalti. Chiudo sulla droga e affido alla Presidente qui la valutazione se è necessario eventualmente secretare o meno questa parte della risposta eventuale del procuratore. Noi abbiamo letto in questi giorni ed emerge in questi giorni uno scenario che rivela un grande degrado delle istituzioni regionali in Sicilia proprio sul tema del consumo degli stupefacenti, in particolare della cocaina. E se unisco a questo è una valutazione che lei ha fatto qui, cioè del fatto che Cosa Nostra sta tornando a occuparsi direttamente del traffico, della gestione addirittura dello spaccio e se quelle piazze di spaccio coinvolgono come sta emergendo a Palermo ambienti che si potrebbe definire, come lei ha a volte fatto, che possono lambire quella che si potrebbe definire, visto questa relazione con Cosa Nostra di borghesia mafiosa, se non sia proprio questa la domanda, l'approvvigionamento della droga, il traffico della droga, una delle forme attraverso le quali Cosa Nostra in questo momento stabilisce e sta stabilendo una certa reciprocità di favori anche con vertici delle istituzioni regionali alla luce di un sistema che sta emergendo in tutta la sua gravità e tutta la sua estensione. Grazie Onorevole Provenzano. Do la parola all'Onorevole Orlando. Voglio solo dire al Procuratore che se lei ritiene di dover dire alcune cose in modo segretato lo farà all'ultimo in modo che io possa chiudere senza problemi. Prego Onorevole Orlando. Grazie Presidente. Quando fu licenziato l'ultimo codice antimafia i suoi colleghi che all'epoca dirigevano le principali procure impegnate nel fenomeno diedero sostanzialmente un giudizio diciamo di adeguatezza dell'insieme degli strumenti che erano stati ricompresi in quel test. Volevo capire se questo giudizio complessivo è ancora valido. Nel frattempo ci siano elementi che possono dire che c'è stato un invecchiamento di quella strumentazione al netto della sua valutazione che ha fatto sul tema del concorso sul quale naturalmente la discussione non solo la questione è aperta dal 1930 ma la discussione è stata ampia e anche parecchio divisiva. Quindi su questo giudizio di carattere complessivo e nello specifico su una questione che riguarda le misure di prevenzione. Quel codice fu licenziato anche in costanza dell'emergere di alcune vicende che riguardarono anche la realtà in cui voi operate. Volevo capire se quelle norme anticollusione sul tema degli incarichi, sul tema della commensalità in qualche modo hanno retto alla prova dei fatti o se invece diciamo hanno necessità di un'ulteriore valutazione essendo diciamo purtroppo la realtà palermitana una realtà dove si sono misurati anche i limiti delle norme precedenti. Tornando a un tema che ha richiamato il collega Provenzano voglio solo fare un'integrazione per capire un dato diciamo non solo rispetto alla realtà diciamo e alla vicenda dell'evasione della latitanza di Messina Denaro ma se più in generale si può parlare oggi di un utilizzo delle organizzazioni segrete come camera di compensazione tra i soggetti del cosiddetto tavolino. Abbiamo visto che questo è sistematicamente utilizzato in alcune realtà pensiamo solo alla Calabria se questo dato diciamo così si può trasporre nella stessa misura e nella stessa diciamo dinamica in una realtà come quella siciliana. Ultima notazione lei ha parlato di una capacità di interagire su anche questa non nuova ma su fronti nei quali l'aspetto della strumentazione finanziaria è tutt'altro che marginale. La domanda è se in qualche modo emergono forme di sostegno o comunque di interazione con intermediari finanziari con soggetti che in qualche modo sostengono le attività imprenditoriali di Cosa Nostra perché è evidente che se i numeri sono anche lontanamente vicini a quelli che vengono normalmente raccontati è difficile pensare diciamo che questi flussi di denaro siano semplicemente gestiti dalla capacità imprenditoriale diciamo dei boss e quindi per capire se c'è qualcosa di nuovo anche su questo fronte. Grazie. Grazie mille. Senatore Russo. Grazie Presidente. Oltre a ringraziare l'ampia e sostiva relazione del Procuratore De Lucia abbiamo alcune considerazioni. La prima che mi ha molto incuriosito è il problema dei collaboratori di giustizia. Lei ha detto che pur essendo uno dei principali strumenti di contrasto alla lotta alla mafia in questo momento vediamo venire meno in parte il loro rapporto sia dal punto di vista qualitativo sia dal punto di vista quantitativo se ho ben compreso e volevo comprendere secondo lei se questo è dovuto a un fenomeno in generale di mutazione del fenomeno, a un problema di adeguamento della normativa in essere o a quale altra causa e quanto secondo lei questo può incidere. Seconda cosa, tema dell'utilizzo dello spaccio dei stupefacenti. Altro elemento a me però anche da Pagermitano è quanto si stia diffondendo lo spaccio dei stupefacenti soprattutto tra i giovani. Praticamente negli ultimi anni c'è un grosso problema relativo al crack, quindi non alla cocaina droga dei ricchi ma al crack droga dei poveri. Soprattutto in Piazza di Spaccio, Ballarono specifico e quant'altro. Ecco questo diffondersi quindi di droghe di a basso livello, come è correlato a questo ritorno all'investimento di Cosa Nostra dei stupefacenti? Perché teoricamente non è una droga che ti porta a un grande ritorno economico e ti espone invece anche se, vorrei un'altra domanda che si correla, se usa degli spacciatori spendibili tra virgolette, cioè nigeriani, ragazzi, spacciatori di piccolo calcolo. Ma come mai questo fenomeno così secondo lei al vostro osservatorio si sta espandendo anche perché sta avendo un impatto sociale molto importante nella nostra città. Punto terzo, un po' mi associo anche alla domanda del collega Provenzano sul tema relativamente alle indagini, laddove è possibile, per quello che vi è possibile naturalmente comunicarci, sulla tritanza di battimento messina a denaro e quanto questo possa essere stato correlato oltre a tutti naturalmente i contesti sociali, culturali e sociali che lei ha evidenziato prima, ma anche all'energia di eventuali collusioni, appunto la situazione segreta, nello specifico alcune logge massoniche. Ah, e altro quarto elemento, lunedì scorso, c'è stata un'importante operazione a Palermo riguardo al mandamento di Resuttana, un'operazione che ha portato all'emersione di importanti connessioni con aspetti della borghesia palermitana, c'è un importante notaio che è stato arrestato, un importante commercialista, quindi c'è come fosse un ritorno, anche se lei ha detto prima un fenomeno, diciamo tra virgolette, calante, ma un ritorno a una connessione importante una certa parte della borghesia palermitana, dal suo punto di vista. Grazie. Grazie mille, la faccio rispondere ricordandole che in caso lo facciamo alla fine, il pezzo segretato. Grazie. Se mi consente Presidente, siccome noi abbiamo ovviamente istituito un gruppo di lavoro che si occupa in questo momento principalmente della latitanza e delle conseguenze della latitanza di messina a denaro affidato al procuratore aggiunto Guido, sul lato messina a denaro delle domande che sono state poste, lascerei la parola a lui. Assolutamente, grazie. Grazie Presidente, credo di andare in ordine cronologico e cominciare proprio dalla questione dei contanti che sottolineiamo al provenzano. Che messina a denaro abbia avuto disponibilità di contante è sempre stata una costante, sotto due ordini di ragioni. La prima perché al centro delle sue attività mafiose e di dominio mafioso c'è sempre stata la grande distribuzione. Il primo grande distributore dell'isola è stato arrestato e condannato per partecipazione a un'associazione mafiosa e per essere stato uno dei finanziatori della latitanza di Matteo Messina a denaro. Questo ha anche ragione per una questione molto pratica che si ricollega proprio alla nozione di contante, nel senso che i supermercati naturalmente sono sempre strumenti che drenano la quantità considerevole di contanti a difesa di altre attività commerciali dove invece questo tipo di uso è nettamente diminuito. I supermercati continuano invece ancora ad essere luoghi dove si spende tanto contante e quindi avendo disponibilità di contante il supermercato è chiaro che è lo strumento ideale, è l'attività economica ideale per poter ottenere in modo facile, semplice, senza ricorrere a pericoli di tracciabilità eccetera, di avere disponibilità di contante. Abbiamo trovato nella sua disponibilità e dei suoi familiari delle somme di denaro non indifferenti, non straordinarie ma delle somme di denaro regolarmente custodite, pronte ad essere utilizzate al bisogno, dalla documentazione sequestrata è stata rinvenuta una contabilità che lui in modo ossessivo e anche puntuale gestiva mese per mese grazie anche, almeno questo ci dicono le indagini, grazie anche alla condotta della sorella e quindi sicuramente il contante ha consentito negli ultimi anni, gli anni della malattia e gli anni in cui si è riavvicinato al suo paese d'origine, gli hanno consentito di vivere in un modo almeno da questo punto di vista sicuramente non tracciabile, non immediatamente di occultarsi bene. Accanto a questo naturalmente il mese di denaro non ha mai trascurato invece i grandi affari, anche qui ci sono stati molti processi, ci sono stati delle condanne, quindi imprenditori del campo delle energie rinnovabili, dell'eolico per esempio, sono stati dimostrati contatti e rapporti con l'associazione mafiosa e con mette mesi di denaro e anche da lì naturalmente ingenti capitali sicuramente saranno stati da qualche parte custoditi e questo è un po' quello di cui ci stiamo occupando adesso, noi soprattutto con riferimento alla importante quantità di documentazione che abbiamo rinvenuto in occasione dell'arresto dell'additante e di tutte le prequisizioni che abbiamo fatto contestualmente, anche in relazione di tutta questa documentazione noi stiamo avviando un percorso di ricostruzione, sfruttando indizio per indizio, attraverso una ricostruzione delle risorse finanziarie di cui l'additante in questo momento, se nel momento dell'arresto aveva disponibilità, quindi sicuramente su questo attenderemo gli sviluppi dell'indagine e vedremo che tipo di ricostruzione riusciremo ad ottenere. Con riferimento poi all'altra domanda relativa alla presenza delle associazioni segrete, anche questa è una storia abbastanza datata, la provincia trapanese in particolare ha sempre avuto un legame storico con le associazioni segrete, le associazioni massoniche, non certamente per una questione di, diciamo così, di idealistica o di condivisione dei valori, ma quando soprattutto dal fatto, determinato soprattutto dal fatto che quando queste associazioni sono tradotte in centri d'affare e quindi luoghi dove si facevano affari e dove si concordavano importanti operazioni economiche, è chiaro che questo ha finito per essere anche il luogo dove cosa nostra ci ha messo mano, anzi ci ha messo più che una mano, ci ha messo il piede, la famosa per tutte storicamente costituzione di una società in cui negli anni Ottanta, in cui si è scoperto dopo che facevano parte tutti i capi delle famiglie mafiose trapanese, a cominciare dal padre di Matteo Messinenaro e che aveva al suo interno importanti componenti massoniche e questo è stato all'epoca uno dei più chiari esempi di cointeressenza di tipo economico tra cosa nostra, trapanese e le associazioni massoniche, che le associazioni massoniche poi abbiano potuto in qualche modo favorire la ditanza di Matteo Messinenaro dal punto di vista pratico, questo è tutto da dimostrare. abbiamo sicuramente degli elementi, uno per tutti il medico di base arrestato dopo la cattura di Matteo Messinenaro che è accusato al momento di essere colui il quale ha un po' gestito tutto l'aspetto sanitario dell'attitante negli ultimi mesi, questo signore è risultato di essere iscritto da un'orgia massonica e quindi questo sicuramente è un dato che da un certo punto di vista ha dei profili inquietanti ma al momento, diciamo, altro è poi il coinvolgimento dell'intero contesto massonico che al momento, ripeto, non è provato. questo rispondo io poi perché è un tema generale, se possiamo proseguire con le risposte affronteremo come dire il complesso delle misure di prevenzione affidando la risposta all'ottoressa Sabella che in questo momento ha la delega sulle misure di prevenzione. Per quanto riguarda i fenomeni oggettivamente patologici che hanno portato a processi, devo dire che i rimedi che sono stati approntati, salvo restando che poi magari domani succede un disastro, si sono rivelati idonei, in particolare una nuova disciplina del meccanismo degli amministratori giudiziari e delle loro nomine che è appunto fondamentale. Probabilmente si potrebbe anche ragionare, ma anche qui bisogna trovare il punto di equilibrio sulla permanenza dei colleghi all'interno dei colleghi, perché noi abbiamo in generale un tema di permanenza decennale che presenta dei vantaggi e degli svantaggi, magari per le misure di prevenzione o per gli uffici dove c'è particolare sensibilità economica, penso alle sezioni una volta fallimentare e ora non più, si potrebbe ragionare in questi termini di rivisitazione, ma anche lì uno deve crearsi una sua professionalità e quindi un po' di tempo ci vuole. Il sistema in questo momento sta dando buona prova di sé dopo aver registrato quelle patologie che sono accadute. Devo anche dire che il Tribunale dei misure di prevenzione di Palermo gestiva la metà dei beni confiscati in Italia, quindi è un patrimonio enorme, per cui si potrebbe anche ragionare in termini di osservatorio sui giudici che svolgono una certa attività, ma che comunque rimane quello che ho detto, cioè assolutamente irrinunciabile. Sì, grazie. Integro la risposta sulla materia delle misure di prevenzione. Certamente la riforma del codice antimafia che nasce anche da questa commissione nella dicesettesima legislatura, insomma, è più che apprezzata parlando in linea generale, anche perché ha comportato, ha aiutato il processo lungo di giurisdizionalizzazione di questa materia che ha costituito da sempre la pecora nera dal punto di vista costituzionale del nostro sistema giudiziario. Come ogni legge anche questa ovviamente è migliorabile, quello che possiamo dire noi dal nostro punto di vista, all'organo inquirente, notiamo che è una riforma che è incentrata molto sulla figura del giudice, sui poteri del giudice. Poco forse si è previsto nei confronti di quello che può fare e che deve fare il pubblico ministero. Pubblico ministero che già si scontra con un problema di discrezionalità, perché la libertà che dà la discrezionalità poi porta ai fini al controllo di esercitare di fatto l'azione di prevenzione tutte le volte, come se fosse obbligatoria, proprio per non incorrere in questioni attinenti all'arbitrio, cioè all'utilizzo arbitrario di quella libertà che il sistema ci concede. Ma soprattutto la questione più importante è la permanenza, per ragioni storiche che non stiamo qui a ripercorrere, della pluralità degli organi di proposta. Perché su uno stesso argomento che si parli di pericolosità semplice, che si parli di pericolosità qualificata c'è la procura della Repubblica del distretto, la procura circondariale, il direttore della DIA, il procuratore nazionale antimafia e il questore e quindi su uno stesso fatto in teoria possono lavorare cinque soggetti completamente diversi con rischio di sovrapposizione e spreco chiaramente di energie. Vero è che c'è un potere di coordinamento da parte del procuratore distrettuale, ma non è un potere di veto, quindi c'è nessuno può impedire ad un altro di svolgere un'indagine di prevenzione. Poi tutto questo lo risolviamo tramite protocolli, cioè di fatto sono problemi che da un punto di vista pratico riusciamo a superare, però voglio dire sono rimessi alla buona volontà e ai buoni rapporti che poi ci sono tra il procuratore della Repubblica e tutti gli altri titolari del potere di proposta. Tutto questo, la pluralità dei poteri di proposta, soprattutto se consideriamo l'organo giudiziario e quello amministrativo, può creare anche una situazione di disparità di trattamento all'interno dello stesso territorio del distretto perché poi abbiamo dei criteri non necessariamente coincidenti. Altra cosa che dal punto di vista del Pubblico Ministero, per esempio ci sarebbe da rivedere il ruolo del PM nella fase esecutiva, cioè nel momento in cui viene eseguito un sequestro su proposta del Pubblico Ministero o comunque dell'organo proponente, viene eseguito un sequestro di prevenzione, il Pubblico Ministero in teoria queste cose le apprende dalla stampa e non può coordinare quel momento di sequestro, quel momento di interferenza con eventuali indagini penali in corso e si può creare un cortocircuito. Sono cose per carità a cui noi poniamo il rimedio però sono delle possibilità comunque previste dalla legge. Come è concludo? Per esempio capiamo che le misure di prevenzione sono tutt'altro rispetto ai procedimenti penali e sono previste per esempio solo la possibilità di sequestro di documenti, non altre attività investigative chiamiamole invasive. Però è anche vero che prevedere una perquisizione al momento dell'esecuzione del sequestro di prevenzione potrebbe essere risolutiva perché di fatto noi possiamo sequestrare il bene ma non compiere la perquisizione in quel momento con la possibilità che è quello che avviene nella stragrande maggioranza dei casi che è il proposto a tutto il tempo, addirittura per incendiare c'è capitato anche chi in fase di sequestro di prevenzione è incendiato, mi riferisco per esempio a Becchina che poteva tenere una documentazione importante anche dal punto di vista economico dei suoi rapporti con Messina e Denaro. Quindi prevedere quantomeno una perquisizione limitata alla fase dell'esecuzione del sequestro potrebbe portare tutta una serie di vantaggi. Credo che forse mi sono dilungata. Grazie. Grazie mille. Procuratore se deve aggiungere qualcosa. Sì, su due temi che sono stati affrontati nella domanda. La collaborazione dei paesi stranieri. Noi investiamo, ma tutto il sistema giustizia investe moltissimo nella collaborazione con gli altri paesi e grossomodo sostanzialmente questa collaborazione funziona anche perché oramai ci sono dei canali diretti che consentono ampiamente questa comunicazione. Le esistenze che troviamo, se devo indicare la lista per così dire dei cattivi, in Europa c'è una resistenza nel Regno Unito di un certo pregio. È sempre difficile avere risposte dalle autorità inglesi, non dalle autorità giudiziarie, ma perché lì anche il sistema dell'accusa è molto frastagliato, appartiene a polizia, insomma è complicato. Lì incontriamo delle difficoltà. Poi incontriamo delle difficoltà sull'altro lato del Mediterraneo perché a parte la Libia che è nella situazione in cui è, dove noi abbiamo soggetti in stato di latitanza che si trovano in Libia, in particolare un grosso trafficante di uomini, di persone che gode della protezione di milizie lì e quindi abbiamo un'ordinanza di custodia cautelare che non riusciamo ad eseguire ma è una situazione bellica sostanzialmente che ce lo impedisce e abbiamo dei rallentamenti su tutte le attività in quell'area e siamo molto interessati ad avere collaborazioni con la Tunisia anche con riferimento alle vicende che riguardano Messina Denaro e qui abbiamo una risposta di tipo formale ma non abbiamo la risposta di tipo sostanziale di cui invece necessiteremmo. Quindi queste resistenze le registriamo ma in un complesso in realtà positivo di collaborazione ad esempio con le autorità svizzere abbiamo avuto una collaborazione molto importante che è tutto rincorso non solo sul versante a cui facevo riferimento ma anche su altri versanti in qualche misura è cambiato l'approccio. Dopodiché è anche un problema al di là di norme anche di credibilità degli organi giudiziari con cui ci si raffronta e per come ci si presenta e questo è un problema di formazione dei magistrati in particolare. Poi c'è il tema delle sostanze stupefacenti su cui mi si era chiesto. Non ricordo se onorevole il senatore Russo mi poneva il tema del crack e questo è un tema di estrema preoccupazione nella città di Palermo perché noi sostanzialmente abbiamo due mercati. Quello più raffinato a cui c'è un grande interesse dell'organizzazione Cosa Nostra, forse non l'avevo specificato e me ne scuso nel corso della prima parte dell'intervento che è per le droghe diciamo così nobili. La cocaina è quella per cui un grammo costa quello che costa e quindi va bene così. C'è un certo disinteresse verso la fascia come dire delle droghe poveri anche qui ci sono droghe di classe e però questo è pericolosissimo perché il crack a differenza delle altre droghe non solo è offerto a 5 euro la dose alla popolazione di ragazzini giovanissimi in alcune aree della città ma soprattutto causa danni irreversibili e quindi è una droga di tipo diversissimo Noi qui stiamo cercando di mettere in piedi due fronti. Uno è quello della prevenzione sul quale non possiamo che dare un'attività di consiglio e di ausilio agli enti che se ne devono occupare e uno nostro che è quello che ci viene dalla tradizione delle investigazioni in tema di criminalità organizzata perché a noi poco interessa prendere lo spacciatore che è sulla cosiddetta piazza di spaccio per uno che prende ne trovi altri 10 che sono disposti a fare lo stesso mestiere quanto svolgere un'investigazione che cerchi di ricostruire l'associazione perché di associazione si tratta che organizza la produzione e la distribuzione da un lato e dall'altro lato il riciclaggio dei soldi che sono tanti in funzione della domanda che è molto alta. È una questione difficile ma secondo me risolutiva cioè l'idea sarebbe da un lato di riassumere questa volta davvero io sono sempre contrario a manifestazioni eclatanti ma probabilmente in alcune piazze della città di Palermo un controllo di tipo militare di quelle piazze per un periodo di tempo limitato che scoraggi la distribuzione sarebbe utile ma solo se accompagnato al vero strumento di prevenzione che è rimane sempre l'investigazione perché noi soltanto attraverso le investigazioni siamo in grado di disarticolare le reti e la disarticolazione delle reti è lo strumento fondamentale per il contrasto dopodiché sull'altro tema devo dire che noi giudizi di carattere morale non ne diamo per nessuno il consumo di sostanze stupevacenti purtroppo è una piaga che ritroviamo in tutte le parti della popolazione noi ci limitiamo ovviamente nel momento in cui costruiamo una imputazione siccome viene prima il diritto di difesa abbiamo il dovere di consentire all'indagato futuro imputato di conoscere tutti gli estremi della sua imputazione quindi è fin troppo evidente che se accuso tizio di avere ceduto sostanza stupevacente e so chi era caio io chi era caio non solo devo dire ma devo offrire tutti gli elementi che dimostrano che quell'acquisto è avvenuto per la verità nel nostro ordinamento anche l'acquisto di sostanza supervacente sia pure non a livello penale è illegale cioè non è che il nostro ordinamento prevede il libero consumo della cocaina ma ripeto questa è la situazione in termini giuridici in termini di contatti è chiaro che ci si rivolge a un mercato dire opaco è poco perché un mercato illecito quello della cocaina quindi è chiaro che sia pure in diversi step un contatto indiretto con le organizzazioni criminali è possibile da parte di chiunque faccia l'acquisto chiunque fa l'acquisto sa che come si espone al rischio di diventare ricattabile e questo può essere un problema per uomini che hanno un profilo istituzionale non faccio riferimento al caso concreto a cui lei stava chiaramente facendo riferimento che insomma è noto e quindi non abbiamo nessun elemento per dire una cosa diversa dal fatto che un soggetto parlamentare regionale ha acquistato sostanza stupefacente da un soggetto che la cedeva e quindi ha commesso un reato per noi il processo è quello e su quello faremo il processo non abbiamo nulla di più da contestare né all'uno né all'altro poi sono tutte valutazioni che non spettano a noi che noi non facciamo e che noi non abbiamo fatto però in linea generale se tu ti rivolgi un mercato illecito è chiaro che il gestore di questo mercato assume nei tuoi confronti quantomeno in astratto un potere di pressione che può essere preoccupante quando si rivestono cariche pubbliche. Grazie mille, allora ho iscritti gli ultimi quattro, no la prego, già l'altra volta lei ha preso la parola da solo, per ordine, per ordine onorevole Orlando. Volevo chiedere che mi rispondesse a due domande che ho posto. Però la parola in genere la dà il Presidente e anche perché ci sono altri. Se non mi dà la parola prendo atto che non mi dà la parola. Le do la parola dopo che sono intervenuti gli altri commissari che ancora non hanno fatto domande, è una questione di ordine dei lavori onorevole, non è una questione di scorrettezza per chi sta aspettando dall'inizio e si è iscritto. Non è la modalità colleghi, con tutto il rispetto, perché se no così non si gestisce, per correttezza verso chi attende. Allora ho iscritti l'onorevole Ascari, il senatore della Porta, Rando e Dattis. Sì, grazie Presidente. Non so se mi sentite. Sentiamo, sentiamo. Ah, perfetto, grazie. Allora, innanzitutto grazie dell'importante contributo che è stato dato. Io volevo chiederle innanzitutto, noi nella scorsa legislatura ci siamo occupati del sistema montante, vorrei chiederle se lei crede che il sistema montante sia, diciamo, sia morto con l'arresto, che ora, diciamo, del suo creatore, che so che ora ha l'obbligo di dimora d'asti. Questa è innanzitutto la prima domanda. Per quanto riguarda invece Matteo Messina Denaro, volevo chiederle innanzitutto complimenti per il lavoro che avete fatto, ho sentito della, insomma, per quanto riguarda la connivenza con il territorio, comunque gli aspetti massonici, c'è una domanda però che non ho capito se per caso c'è stata la risposta, chiedo scusa se ha già risposto, però le volevo chiedere a proposito appunto di Messina Denaro, diciamo che la criminalità comunque mafiosa, abbiamo visto nel corso di tutti questi anni, abituata a perdere i propri capi, ecco, l'ha già fatto in passato e ovviamente l'ha fatto ora con Messina Denaro. Ecco, io volevo capire un attimo se è stato sostituito e costui eventualmente crede che segua le linee, diciamo, tracciate dal Bostra Panese catturato a gennaio. Poi le chiedevo se lei ritiene che oggi, ad oggi, i regimi di 41 bis siano idonei per impedire il passaggio di messaggi dall'interno all'esterno, si ritiene che siano adeguati per garantire quell'imperneabilità, quella separatezza e quindi per bloccare anche dal sistema carcerario appunto la possibilità dei boss mafiosi, da ultimo Matteo Messina Denaro di comunicare con l'esterno. Ultima domanda, le mafie sono sempre più liquide, questo lo vediamo e ci sono stati numerosi, diciamo, familiari di boss mafiosi che si trovano nel 41 bis, che attraverso canzoni trap, canzoni neomelodiche pur nel rispetto ovviamente dell'arte e della libertà di espressione, hanno utilizzato parole, modalità di messaggi che non avvengono più solo con i pizzini ma anche attraverso la musica e i social network. Ecco, io le chiedevo dottore se da un punto di vista legislativo e quindi parlamentare ritiene che il legislatore possa coprire un voto presente nell'articolo 414 del codice penale prevedendo l'aggravante dell'istigazione o apologia del delitto di affidazione mafiosa per mettere un freno a questi nuovi messaggi che inneggiano o comunque istigano ad entrare all'interno dell'associazione mafiosa e a commettere reati. Grazie. Grazie mille. Senatore Della Porta. Grazie Presidente, grazie al Procuratore e ai suoi aggiunti anche per l'esposizione così chiara. Io le farò una domanda che, diciamo, su un argomento che non è stato ancora trattato quello, appunto, mi perdono il gioco di parole, della tratta di esseri umani. Lei ci ha ricordato poc'anzi come le mafie sono alla ricerca continua di risorse economiche in maniera anche sistematica. Questo evidentemente è anche il frutto e la conseguenza dell'azione dello Stato e dello sforzo dell'autorità giudiziaria e delle forze dell'ordine che hanno evidentemente inferto colpi alle loro economie. Si pensi all'applicazione di misure caudelari, il senquestro, la confisca e comunque vanno a ledere i conti e i patrimoni delle mafie. Ecco, vorrei capire in questo, partendo dal presupposto che secondo me anche la tratta è un'attività molto remunerativa, come si innesta il fenomeno mafioso, appunto, nel contesto della tratta, se possibile dare qualche elemento per comprendere effettivamente come la mafia oggi si muove all'interno di questo fenomeno globale che evidentemente ha dei riflessi economici molto importanti. Grazie. Grazie mille. Allora, ho la senatrice Rando. Grazie, grazie Presidente, grazie al Procuratore di Lucia, grazie agli aggiunti, anche per la chiarezza per la complessa esposizione su tanti punti, tante domande sono state fatte, ma io vorrei concentrarmi su tre cose che insomma sono, intanto come avete detto, insomma come si evidenzia la grande accumulazione economica delle mafie, specialmente insomma tutto il tema che avete detto con profondità, le droghe, il tema del riciclaggio e del reinvestimento, come si evidenzia, e cosa evidenzia? Intanto se ci sono settori nuovi, per esempio si parlava prima il dottor Guido rispetto all'eolico, ma anche il tema sociosanitario, si evidenzia un investimento su questi diciamo settori e poi se i reinvestimenti della grande accumulazione economica rimangono nel territorio o che evolgono diciamo in altri luoghi. L'altra cosa è l'usura, è uno dei reati insomma che ha sempre un po' caratterizzato un modo anche per espandere dentro diciamo nella retratezza dei territori, del controllo del territorio, però una delle cose che abbiamo sempre visto è il tasso usuraio che oggi io spesso chiamo tasso di investimento, perché più della restituzione della somma, delle somme diciamo prestate, vanno ad investire e vogliono le aziende o altrimenti diciamo cercano di strozzare gli imprenditori che spesso non sono collusi più insomma che vittime. E quindi questo si evidenzia, si trasforma e su questo è importante perché ci può essere anche un ragionamento rispetto al reato classico diciamo di come lo conosciamo. Poi voi l'avete detto in maniera diciamo in tutti i modi il tema vero è della prevenzione, una cultura diciamo della legalità, una cultura diffusa diciamo specialmente in territori anche molto particolari e quindi il tema dei minori. Si evidenzia una fascinazione maggiore, c'è anche una debolezza rispetto diciamo al mondo anche minorile ma evidenziate una espansione diciamo della, come dire, del fatto insomma che le mafie assoldono i minori e anche rispetto all'età e su questo mi pare aver letto che anche voi come tribunale e come procura diciamo di Palermo avete ragionato, insomma avete un rapporto con il tribunale per i minori perché diciamo avere un rapporto e ragionare diciamo già preventivamente su questo credo che sia importante. Quindi queste riflessioni ci interessavano anche per capire meglio quali possono essere strumenti di rafforzamento anche per una cultura della prevenzione rispetto a uno sguardo ai minori che forse ce ne occupiamo un po' troppo poco. Grazie mille, se mi sente il Vice Presidente Dattis. Eccomi Presidente. Grazie. Grazie. Ringrazio anch'io il Signor Procuratore e i sostituti che ci hanno dato la loro disponibilità. Vengo subito alla domanda. Un tema che non ho sentito toccato ma che mi interessa molto ci venga raccontato dalla prospettiva periferica perché faccio riferimento alle dichiarazioni del Procuratore nazionale antimafia a proposito del tema del super bonus. Devo dire anche con mia sorpresa il Procuratore ha dato degli alert molto preoccupanti rispetto agli effetti del super bonus non tanto dal punto di vista che obiettivamente anche noi che abbiamo partecipato a tutta l'iter normativo sapevamo, quello delle truffe, ma addirittura di un consistente protagonismo delle mafie che, a detta dello stesso Dottor Merillo, addirittura non si è nelle condizioni ancora di quantificare, nel senso che dava prospettive di risultati di avvenire rispetto alla gestione dei crediti con lo Stato in mano alle mafie molto ma molto preoccupanti. Volevo sapere quindi se, in ragione anche della competenza distrettuale, avverte il signor Procuratore le stesse preoccupazioni o meglio ancora se ci sono già dati rilevanti da questo punto di vista che le preoccupazioni le renderebbero concrete. Grazie. Grazie mille. Onorevole Orlando, se vuole chiedere chiarimenti, prego. No, volevo soltanto chiedere una risposta alle domande che avevo posto e che naturalmente tra le molte sono probabilmente andate in secondo piano. La prima riguarda la questione del rapporto con la finanza e la seconda riguardava invece rispetto alla questione specifica del ruolo che eventualmente si può, dal suo osservatorio, misurare sul ruolo delle logge segrete, quindi non solo rispetto alla vicenda messina a denaro. La ringrazio. Grazie. Procuratore, con questo abbiamo terminato. Poi la liberiamo. Sì, no, comincio dalle ultime. In realtà sono le prime che non dolosamente avevo omesso, proprio perché fra le tante erano sfuggite. Allora, il ruolo della finanza è un problema che si collega a un'altra delle domande che è stata posta, perché noi abbiamo avuto per il passato un notevolissimo, come dire, accumulo di risorse illecite da parte dell'organizzazione criminale. Una parte di queste risorse, anche importante, anche per ragioni storico-culturali, è stata investita sul territorio e riguarda soprattutto l'edilizia. Ed è una questione antica, in cui è parte anche la vicenda degli anni Sessanta del sacco di Palermo, e ha continuato ad essere investita in maniera massiccia fino agli anni Ottanta circa. Dopodiché un'altra parte di questo denaro è andato all'estero, di questo abbiamo tracce, soprattutto in contanti, quindi con meccanismi a finanziare, diciamo così, nella stagione del grande traffico di stupefacenti. E lì però, siccome il denaro naturalmente non dorme, soprattutto quando è affidato alle sapienti mani dei banchieri, ha prodotto investimento. Ora noi abbiamo una struttura investigativa di qualità che è il nucleo valutario della Guardia di Finanza, che è a Palermo, da alcuni anni, e che sta svolgendo un'attività investigativa sulla gestione di alcune banche e di alcune attività finanziarie, perché in questo momento, non avendo notizie di reato specifiche su flussi finanziari e su destinazioni di questi flussi finanziari, ci stiamo dedicando alla struttura di queste organizzazioni, più finanziarie che bancarie, perché le banche oramai sono rimaste poche operative e sono soggette a un regime di controllo particolare. Questo è lo stato dell'arte. Per quanto riguarda la questione più in generale delle logge, noi stiamo verificando, siccome incontriamo soggetti iscritti a logge massoniche che sono in contatto con esponenti di Cosa Nostra, lo abbiamo fatto per il passato, continuiamo a registrarlo anche nelle indagini più recenti. Quello a cui assistiamo è un raffinarsi dell'uso dello strumento della logge, in qualche modo, nel senso che non troviamo più, come invece in passato è stato, il mafioso che è dentro la logge, anche se qui, in punto di ortodossia delle regole, un mafioso non potrebbe essere un appartenente alla logge massonica, perché si giura una sola cosa, si giuri in Cosa Nostra, non giuri. Però le regole sono fatte anche per essere interpretate in maniera elastica, quando serve, e quindi abbiamo avuto nel passato presenza di importantissimi esponenti mafiosi in logge. Oggi, secondo il nostro osservatorio, il meccanismo si è raffinato, nel senso che il mafioso non dialoga più direttamente e quindi entra nella loggia e nella loggia stabilisce le relazioni che gli servono. Lo fa attraverso un soggetto che lui sì è in tranio alla loggia. E questa cosa, ma questo lo stiamo ancora elaborando, può configurare un nuovo profilo di quel concorso esterno di cui si diceva un po' di tempo fa nell'ambito di questa audizione, perché una delle forme di collaborazione del soggetto non mafioso sta proprio quella di garantire l'accesso e la veicolazione dentro la loggia che serve per tante cose utili all'organizzazione mafiosa, che se non fossero fatte dal mafioso, da chi le fa per conto del mafioso, non avrebbero molto di illecito, insomma. Ma siccome sono fatte da quel soggetto, crea quei vantaggi di cui abbiamo parlato prima, che rafforzano anche l'organizzazione mafiosa. Riprendendo dalla prima domanda dell'onorevole Ascari, se non sbaglio, era la prima che ha fatto le domande. Allora, sul sistema montante ovviamente non dico niente perché è un processo in corso, ed è un processo in corso peraltro istruito presso un distretto di corte d'appello diverso dal nostro, e quindi non ritengo di poter dire nulla. Devo dire, ho qualche difficoltà sull'identificazione di chi viene dopo Messina Denaro, perché è chiaro che stiamo facendo delle valutazioni e anche delle attività, e però devo precisare alcune cose, forse è utile questo per la Commissione. Noi non abbiamo detto mai che Messina Denaro è il capo di Cosa Nostra, perché Messina Denaro non è il capo di Cosa Nostra, qui per una questione di regole ma anche di realtà di fatto, nel senso che di fatto lui non ha mai governato l'organizzazione, ma le regole dell'organizzazione vogliono che sia la Commissione provinciale di Palermo a nominare il capo e che questo capo deve essere di Palermo. Poi per carità, ci dobbiamo intendere anche qui, tra costituzione formale e costituzione materiale, però lui è stato il capo della provincia di Trapani sia dal punto di vista materiale che formale. E su la provincia di Palermo e su tutta Cosa Nostra ha svolto una funzione carismatica, nel senso che essendo l'ultimo stragista libero, il soggetto in qualche misura anche mitizzato, il cui ruolo è cresciuto in forza della sua importanza, anche mano a mano che gli altri venivano catturati, è chiaro che alcune decisioni che riguardavano vicende importanti dell'organizzazione mafiosa hanno ottenuto il suo consenso o quantomeno il suo non dissenso. Diciamo che gli viene riconosciuto in punto di fatto una funzione anche carismatica, ma non è il capo di Cosa Nostra. Cosa Nostra tende, non da ora, a ricostituire non tanto il suo capo quanto il suo vertice. Questa è una tendenza che noi registriamo almeno dal 2006. Nel 2006, in aprile, la dottoressa Sabella è stata protagonista in prima persona, viene catturato Bernardo Provenzano, lui sì il capo di Tutta Cosa Nostra. Noi registriamo da allora una tendenza dell'organizzazione a tentare di ricostruire il suo vertice perché essendo naturalmente una struttura unitaria ha bisogno di questo vertice. Ci sono almeno due processi, uno del 2009 e uno credo del 2016, io non ero proprio di Palermo, però che evidenziano proprio questo, come si cerchino personaggi anche anziani ma autorevoli che possano aiutare a ricostituire la Commissione e che siano i custodi delle regole che poi possono essere in qualche modo osservate e distribuite al resto del popolo di Cosa Nostra. 41 bis, che torno a ribadire è uno strumento indispensabile del contrasto, io non voglio dire che lo strumento sia in crisi, però tutto può essere rimodulato. Intanto da qualche giorno abbiamo ricevuto una notizia per noi assai positiva e cioè che le liste d'attesa dei soggetti per i quali era predisposto il decreto di applicazione del regime ma che non potevano essere messe a regime perché mancavano i posti, da qualche giorno abbiamo una comunicazione che queste liste si sono esaurite. Per noi è una notizia assolutamente confortante, vuol dire che l'amministrazione penitenziaria ha raggiunto un risultato, ripeto, importante, cioè il fatto che noi oggi se proponiamo e otteniamo il decreto un soggetto a regime del 41 bis siamo in grado di vederlo ristretto al 41 bis senza particolari tempi che debbano trascorrere. Dopodiché è chiaro che bisogna fare una riflessione sul 41 bis, comprenderne, dato per scontato quello che ho detto sulla sua validità, è chiaro che neanche deve essere inteso come un provvedimento eterno ma che deve tenere conto sia del ravvedimento del soggetto sottoposto al regime ma soprattutto della situazione esterna. Non parlo di Cosa Nostra perché per Cosa Nostra il problema di un rapporto col territorio rimane costante sempre, però ad esempio in terre di Camorra la continua fluttuazione delle realtà criminali fa sì che chi è stato capo in un certo periodo non solo smette di esserlo ma anche il clan a cui apparteneva smette di esistere, non perché siano andati tutti a fare i boy scout ma perché sono confluiti in altri clan. Quindi questo destruttura completamente l'organizzazione, bisogna porsi la domanda se un soggetto deve ancora rimanere o meno in regime di 41 bis, così come deve essere rivalutata una proposta del garante per i detenuti che poneva il problema degli ultimi sei mesi di detenzione in regime di 41 bis di un soggetto che comunque sarebbe stato riposto in libertà. Anche qui deve essere oggetto di valutazione, vedere cosa fa a meno danni e quanto senso debba avere per un soggetto che divida sei mesi CES torna libero conservarlo ancora in regime di 41 bis. Dobbiamo ancora dire che questo regime per la verità si applica prevalentemente a soggetti che non ce l'hanno, una prospettiva di tornare in libertà perché sono condannati appena definitiva. Dobbiamo poi considerare il singolo soggetto che può essere un capo riconosciuto di Cosa Nostra, il cui valore è insostituibile e quindi non puoi consentirgli in ogni caso di tornare a comunicare con l'esterno insomma fermo restando l'assoluta validità del regime e questo regime deve essere tarato. Deve essere tarato anche dal punto di vista di come il soggetto rimane detenuto perché devono essere assicurati naturalmente degli spazi congrui devono essere considerati quei minimi di parametri individuati dalla giurisprienza costituzionale però se mi è consentito il regime del 41bis per come viene talvolta raffigurato come una forma di tortura nei confronti dei soggetti risottoposti è veramente lontano dalla realtà. Sono in una situazione carceraria molto peggiore e questo me lo dicono appartenenti alla polizia penitenziaria soggetti che sono ristretti in numero di 5 o 6 magari di etnie diverse all'interno di un carcere, chiamiamolo ordinario per i quali ogni sera c'è una battaglia anche solo per determinare quale canale televisivo poter vedere. Quindi il tema del 41bis è un tema delicato ma il tema del trattamento di tutti i nostri detenuti è un tema altrettanto delicato e crea, a mio giudizio, dal punto di vista dei diritti umani situazioni di maggiore criticità. Sulla tratta risponderà la dottoressa Sabella che ha un'esperienza radicata molto forte sul tema. Prego. Il tema del riciclaggio è connesso in qualche modo al tema dei finanziamenti anche lì cerchiamo di selezionare quanto più è possibile la qualità delle nostre indagini e diciamo così abbiamo esiti più confortanti quando riusciamo a individuare beni materiali che sono stati oggetto di riciclaggio attraverso strumenti anche alternativi al riciclaggio penso alla fittizia e intestazione di beni e quant'altro sul tema dell'usura devo dire nelle indagini di criminalità organizzata di tipo mafioso noi non riscontriamo questo reato bisogna dire le cose per come sono è un reato che è oggetto di indagini da parte di un altro dipartimento della mia procura che è il dipartimento di contrasto al crimine economico non abbiamo però notizie di interessi diretti del crimine organizzato su questo tipo di reato che in qualche misura è conforme alle regole perché è noto che i mafiosi due reati guardano con particolare diffidenza uno è l'usura e l'altro è la prostituzione però siccome i soldi dell'usura comunque non puzzano come tutti gli altri un'attenzione a prendere questi soldi magari applicando il pizzo agli usurai questo si è fatto storicamente in passato ma ripeto al momento l'usura che pure colpisce una fascia della popolazione non è oggetto di interesse per quanto ci dicono le nostre indagini del crimine organizzato poi c'è un problema che riguarda la vittima di usura che secondo me secondo noi va sempre più distinta dalla vittima di estorsione perché la vittima di usura ha bisogno di essere accompagnata in un percorso particolare perché è un soggetto che come dire ha un rapporto ambiguo con l'usuraio e vittima e carneficio al tempo stesso c'è capitato di incontrare recidive dal punto di vista della vittima quindi ad esempio un sistema di protezione adeguato della vittima di usura deve sì prevedere ristori economici ma soprattutto deve prevedere la capacità di riaccompagnarlo in un circuito virtuoso il nostro ufficio ha di recente stipulato un protocollo con la procura dei minori che ci impone a indagini discoverate come si dice con un brutto termine di informare il procuratore dei minori rispetto a situazioni di particolare complessità che riguardano famiglie di soggetti che hanno commesso reati di particolare interesse per il crimine organizzato perché poi naturalmente abbiamo tutta un'altra serie di meccanismi reattivi per quanto riguarda i reati del codice rosso qui però ma questo è rimesso all'autorità giudiziale minorile bisogna fare molta attenzione rispetto alle questioni che riguardano i minori figli dei mafiosi semplifico perché una cosa a mio giudizio noi non dobbiamo fare ma la semplifico veramente dobbiamo togliere i figli ai padri perché se no rischiamo che appena questi diventano maggiorenni solidarizzino con i padri e odino lo Stato per quello che a loro dire ha fatto e la mafia avrebbe gioco facile nel sostenere un meccanismo del genere a meno che questo meccanismo è molto costoso ma necessario non sia accompagnato da un percorso di recupero sapiente nel senso che il giovane deve essere messo nella condizione di capire perché ha subito quella procedura che l'intera famiglia deve essere messa in condizione di capire in qualche misura che lo stesso mafioso debba essere messo in condizione di capire cioè non esistono situazioni drastiche ma esistono situazioni che non si possono esaurire con un provvedimento del giudice ma devono essere accompagnate da uno sforzo in qualche misura come dire anche sociale di impegno che però è anche economico perché vuole dire risorse vuole dire psicologi assistenti sociali e via dicendo insomma per fare il contrasto globale alla lotta alla mafia le risorse servono e sono importanti infine sul super bonus noi abbiamo constatato questo cioè abbiamo constatato in qualche misura una mafia che aspettava che un po' fatte le dovute proporzioni quello che è accaduto e che sta accadendo per il PNRR cioè la mafia che ha aspettato che partissero i meccanismi relativi al super bonus poi siccome erano complicati ma questo lo dico sull'esperienza di alcuni processi che si sono verificati a Palermo e però parlo anche della mia esperienza precedente come procuratore distruttore di Messina ma c'è poca differenza dal punto di vista territoriale dei comportamenti le organizzazioni mafiosi hanno cercato di gestire gli appalti privati cioè una volta acquisito il super bonus poi erano loro che decidevano chi ci metteva i materiali chi lavorava chi forniva gli infissi e via dicendo quindi hanno cercato di alimentare un binario economico gestito da loro sulla scorta delle risorse che si potevano realizzare attraverso il super bonus che è un po' quello che sta succedendo col PNRR perché loro non sono stati in grado come accadeva in un oramai remoto passato di intercettare i finanziamenti però adesso che siamo nella fase dei cantieri quella sì è la fase di interesse in quella fase noi troviamo la loro presenza appunto con i meccanismi di cui si diceva prima dei subappalti e via dicendo del resto la prima parte degli obiettivi era una parte soprattutto legislativa adesso c'è il problema della cantierabilità e questa è una cosa che a loro interessa molto infine sulla tratta avevo detto che sarebbe intervenuta la collega grazie Sì grazie la domanda è complessa quindi la mia risposta dovrebbe in teoria essere complessa ma cercherò di semplificare molto ci si chiedeva il rapporto con il sistema mafioso allora tratta immagino che si intendesse sia la tratta che le associazioni destinate finalizzate all'immigrazione clandestina cercando di semplificare dobbiamo distinguere due fenomeni che sono all'interno dello stesso fenomeno ma sono delle cose completamente diverse parliamo di rotte se guardiamo la rotta libica quindi il traffico di migranti proveniente dalla rotta libica tutto questo avviene all'estero poi noi abbiamo la giuridizione abbiamo la competenza per tutta una serie di altre cose che non credo possono essere di particolare interesse in questa sede ma avvenendo tutto sull'estero non c'è alcun rapporto né con le associazioni almeno per quello che è la nostra esperienza nel distretto non c'è nessun rapporto con le associazioni mafiose o altre associazioni criminali che operano sul territorio addirittura una volta gli scafisti venivano ad accompagnare il natante fino alle coste siciliane ma poi hanno smesso persino di fare questo utilizzando la figura del cosiddetto autoremediato prendono uno dei migranti che poi porterà e anche il circuito del denaro dei flussi di denaro che riguarda l'immigrazione clandestina passa attraverso canali come per esempio il cosiddetto metodo Awala che segue praticamente dei canali fiduciari ma non dei canali bancari quindi anche questo poi prescinde molto dal nostro territorio quindi nessun abbiamo diversi procedimenti che riguardano le associazioni di trafficanti libici ma in nessuno di questi procedimenti abbiamo verificato il contatto con l'associazione mafiose diverso invece quello che accade con la rotta tunisina perché un po' anche per ragioni storiche per un insediamento della popolazione tunisina nel territorio siciliano insediamento che risale a molto tempo addietro e quindi già l'esistenza di rapporti la vicinanza della costa tunisina con soprattutto le coste trapanesi hanno comportato che il traffico di migranti è servito anche al trasporto di stupefacenti al trasporto di tabacchi lavorati esteri al trasporto dal volta di armi e in questi casi invece abbiamo riscontrato il rapporto con la criminalità organizzata locale ma anche con l'associazione mafiosa che ha ordinato i tabacchi lo stupefacente e comunque con siccome nella rotta tunisina si assicura anche il sistema dell'accoglienza e del trasferimento all'interno del territorio italiano quindi i contatti sono più stretti perché grazie all'italiano grazie all'associazione criminale del territorio il migrante viene trasferito e spostato in Francia o comunque nella destinazione finale se poi parliamo di tratta vera e propria ancora meno abbiamo contatti con l'associazione mafiosa abbiamo contatti invece e rapporti invece con altre forme associative o addirittura spesso con dei singoli criminali se guardiamo per esempio alla tratta finalizzata allo sfruttamento sessuale di solito è la mamanna di altri paesi che si stabilisce cioè che vive opere in Italia che gestisce lo sfruttamento sessuale ma valendosi di complice anche per l'ermitano in questo l'abbiamo accertato in diversi procedimenti come per esempio della tutela di associazioni nigeriane che pure operano sui territori per quanto riguarda invece la tratta finalizzata allo sfruttamento lavorativo è sempre il singolo che il singolo o delle associazioni ma non sono le associazioni mafiose almeno secondo le nostre ricostruzioni che operano lo sfruttamento lavorativo poi se quell'impresa produce profitto e questo profitto finisce come spesso accade anche nelle tasche dell'azione mafiosa ma il rapporto in questi casi cioè è semplicemente indiretto ma non ma non diretto grazie mille allora a questo punto io credo procuratore di doverla ringraziare di dover ringraziare con lei i procuratori aggiunti qui presenti i commissari perché anche questa è stata un'audizione molto lunga ma anche molto proficua almeno per i nostri futuri lavori buon lavoro anche a voi e credo a presto grazie